buongiorno amici di non aprite questo blog benvenuti benvenuti sul canale qui ai gonz secondo me ci sono persone che sono qua che non vedevano l'ora benvenuti sul canale oggi una live veramente speciale perché sono con un mio amico prima di tutto e poi una persona molto molto competente in ambito tecnologico con una preferenza verso la realtà virtuale sto parlando di intanto abbasso la musica sto parlando di aaron brancotti eccolo ciao ciao ragazzi benvenuto va belle d'unità anche conosciuto sul web con questo pseudonimo allora aaron tu sei prima di tutto una persona che ho conosciuto vent'anni fa anzi di più forse uno dei miei primi per me è stata un'esperienza di lavoro importantissima adesso non vorrei poi parlare sempre di me perché con le mie live finisce sempre così ho l'ospite poi parlo solo di me però io lì in questa esperienza in questa software house diciamo ho conosciuto te eri e sei tuttora uno sviluppatore di software e altri professionisti tra cui dimitri negroponte e Dario Miticocchi un grande designer e io ho imparato un sacco di cose io ero un ragazzino cioè insomma un ragazzo giovane e ho imparato vabbè lì lì ho imparato un po a fare 3d un po io venivo come disegnatore e poi ho conosciuto te insomma mi sono appassionato per me è stata un'esperienza molto formativa che mi ha permesso poi di fare quello che ti faccio adesso tu invece erano decenni che erano millenni secoli che bazzicavi il mondo della tecnologia sin da piccolo smanettavi con circuiti elettrici cose del genere mi sembra aver capito e hai sviluppato il tuo primo software a 14 15 anni qualcosa del genere o anche prima due anni no perché i computer sono venuti dopo quando quando io ero già intrippato i computer i computer ancora li dovevo ancora vedere nel senso che io già da bambino ero intrippato con la fantascienza i robot io in giro ancora i miei quaderni delle elementari con su tutti i disegni dell'astronavi con le robe lì mi tiravano il culo perché tutti quanti facevano la collezione delle figurine dei calciatori io facevo la collezione delle figurine di chado ufo e tutte quelle robe era era anche l'epoca in cui andava ancora molto il western mi sembra no sì il west il west era la fantascienza se la sono un po combattuta poi in quel periodo e tu invece eri appassionato di fantascienza intanto perdonami ti interrompo un attimo per salutare tutti quelli che sono arrivati e per ringraziare vitto per gli 85 e iliose per l'abbonamento regalato grazie mille ragazzi io se regalate abbonamenti e donate capisco che vi interessano anche questi contenuti un po più elaborati perché ogni tanto quella e caro aaron dei sapere che cazzeggio anche non è che faccio solo diciamo cose approfondimenti ci sta è un luogo anche di grande socialità questo quindi credo che sia anche un po una formula perché se no se uno si impegna troppo non va troppo non va bene impegnarsi troppo secondo me delle cose esatto poi diventi un secchione no esattamente poi diciamo hai studiato un po in ambito cosa che cosa hai fatto esattamente allora io ti dicevo sono nato in quel modo lì e quindi la diciamo l'evoluzione naturale è stata quella di appassionarmi all'elettronica poi dopo studiando elettronica sono andato a finire in una scuola dove invece c'era un computer quindi mio il mio primo computer l'ho visto nel 1979 sono io sono nato ok io avevo io ho tre anni ecco vito e lì è stato lì che all'inizio non ho capito assolutamente niente di che cosa stavo vedendo ricordi che computer era così perché qua c'è anche nel feticismo è vintage quindi se citi cose antiche la gente si era un ibm serie 1 e un ibm serie 1 donato a quella scuola che è villa greppi è una scuola che c'è a monticello brianza era stato donato dall'associazione industriali e si è per puro caso cioè lì c'era una scuola mentale dove c'era il corso era una scuola superiore io sono sono lì sono diventato perito elettronico però c'era anche il corso di informatica e lì ho visto questo calcolatore ma inizio tre mesi non ho capito più nulla poi ho capito che mi verrebbe da dire gli altri pensavano alla e tu invece computer non buttiamola già in cacciara allora andiamo avanti quindi ho ricordi di pomeriggi passati a smanazzare sullo z sullo zx 80 eccetera eccetera la festa di quasi sì e per te la festa era comunque scoprire queste apparecchiature cosa si poteva fare fondamentalmente ed eravate anche pochi immagino avere questa passione quindi poi si diventa amici di questi di tra di tra gente che ha questo fetish per l'informatica in quegli anni sempre io cioè ancora quella gente che ho conosciuto lì secondo me fra un po li vedremo entrare perché cioè gente che conosco da allora quando hai erano macchine ti dico lo zx 80 primo computer che io ho avuto mio che gli ho fatto una testa così ai miei genitori per farmelo comprare era una macchina che aveva un un k in mezzo di ram non un mega un k di ram si oggi oggi è oggi è più della fantascienza forse rispetto a quello che pensavi no finisco un attimo intanto ringrazio giorgio per i 100 bit finisco un attimo la descrizione così entriamo nel vivo perché vedo già che stiamo allora poi dopo comunque la tutti sei innamorato di un'altra realtà importante dell'informatica che alla realtà virtuale nel 1990 e da lì hai sempre diciamo lavorato studiato ti sei sempre seguito questa questa cosa che poi cercheremo di capire insieme perché non è mai esplosa veramente e ora invece sembra che quindi quindi adesso prendiamo avanti poi hai lavorato diciamo oppure esplosa tre volte questa è la terza si esplosa e poi diciamo si è un po' spenta no come altre come altre cose come per esempio il 3d nel cinema no sai il 3d quello degli occhialetti che ogni volta torna poi poi si rispegne che poi ha un po' a che fare anche con questo tema no gli occhialetti 3d poi ne parliamo poi comunque io e te abbiamo lavorato anche in questo campo dei videogiochi poi se vogliamo parlare anche di quello però poi tu hai lavorato anche per progetti medici legati alla realtà virtuale di cui tra l'altro uno l'abbiamo fatto insieme io ne vado molto orgoglioso perché veramente una delle cose più strane che ho fatto nella mia carriera diciamo di io sono lo sai un visualizer un designer quindi faccio di tutto di più questa è una roba strana cioè addirittura ho fatto per te delle dei 3d per un ambiente virtuale che esattamente a cosa servivano perché io io eseguo poi tu mi sembra che avessero a che fare comunque con lo studio della di certi comportamenti nell'autismo no la questione è questa sia il primo lavoro che avevo fatto dunque questi lavori sono stati fatti prima di tutto con la fondazione dognocchi di milano e il concetto interessante scusa no 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 scusami tu vai avanti io parlo da solo con tipo tourette tipo tipo sì ok sto salutando la gente in chat senza interromperti tipo sussurrando l'idea interessante era di utilizzare la realtà virtuale come simulatore di task di tutti i giorni perché è uno dei problemi in neurologia quando hai a che fare con la riabilitazione neurofisiologica eccetera eccetera è capire a seguito di lesioni piuttosto che malattie piuttosto che eccetera eccetera quali sono le facoltà residue che una persona ha e quindi in pratica l'idea è capire come e quanto riesce a fare le cose che deve fare nella sua vita come un ambiente di test per umani esattamente era un simulatore di guida quello quindi serviva a vedere quanto una persona che avesse avuto vari tipi di lesioni di lesioni neurali incidenti piuttosto che da malattie eccetera eccetera avesse difficoltà a reagire nei tempi e nei modi corretti quando guida cioè se ti passa davanti uno tu lo tiri sotto oppure riflessi o capacità cognitive diciamo ci sono ci sono delle ci sono delle cose incredibili del nostro cervello per dirti del vostro però non del mio sicuramente una roba che ti chiama neglette per cui tu riesci a porre l'attenzione solamente sulle cose che succedono da una sola parte del tuo campo visivo cioè se la roba succede a sinistra la percepisci se si succede a destra no cose di questo tipo è interessante infatti infatti sono miliardi le cose interessanti che hai fatto e mi ricordo che quando ho fatto questa cosa per te ho detto a una roba per un esperimento bello figata però non ci ho capito niente comunque comunque scusa profitto un attimo per salutare tutti quelli che sono arrivati andreina fox giorgione meta grande finisco la descrizione un po dei lavori che hai fatto così entriamo nel vivo è veramente tanta la roba di cui parlare quindi devo stare molto attento al timing allora poi hai lavorato anche va bene i videogiochi con con me poi hai lavorato nell'i tracking è interessante ai tracking scusa ai tracking che è lo studio diciamo del comportamento dell'occhio macchinari che appunto sono capaci di seguire che ora è tra l'altro è usato usatissimo per il web per il marketing per le strategie però però era basta ti sei annoiato e ora ora diciamo sei cto di una start up fighi cioè per me è fighissima entusiasmante che è fishbone creek che si occupa di metaverso non è una start up però scusa mi perdona perdona mi perdona vedi io se non faccio due o tre gaff sono non sono nel mio stile capito è una società che si occupa di metaverso di cui sei responsabile se mi sei giusto responsabile tecnologico diciamo mi sembra anche il minimo visto che vista l'esperienza che hai quindi è una bella cosa e quindi questo mi sono dimenticato qualcosa diciamo di cruciale che interessa diciamo ma le esperienze no in tutto questo allora a parte che adesso spiego un po meglio cos'è fishbone creek perché in realtà non è che si occupi di metaverso parte anzi completamente da un'altra parte in tutto questo c'è anche da dire che ho anche scritto scrivevo per virtual quindi magari c'è chi si ricorda la rivista virtual degli anni 90 che appunto è nata in quel momento di grande fermento per la realtà virtuale che erano appunto i primi anni 90 virtual che nasce contemporaneamente a wired peraltro esattamente lo stesso anno quindi voglio dire veramente una come un precursore di temi tecnologici e niente ho scritto su virtual praticamente dal numero 4 fino a quando ha sospeso le pubblicazioni altre cose ma io ci tengo a dire che comunque sei anche scrittore di racconti sei un appassionato d'arte sei un musicista è suonato anche in un gruppo bellissimo ai figli di madre ignota e altri gruppi insomma quindi questo per dire che sei una persona che ama tantissimo l'arte assolutamente creata dagli umani perché oggi parleremo anche dell'arte creata dai non umani e a tal proposito un meta ci chiede in live se parleremo di stable diffusion io gli rispondo di sicuramente cioè io cercherò di tenere un bel pezzo di live per questo argomento che è bello dico in parole poverissime è questa cosa che sta girando per cui tutti si fanno generare immagini dall'intelligenza artificiale quella che conosco io e si chiama i giorni e ce ne sono anche altre poi ci spiegherai meglio io sicuramente dirò un sacco di castronerie perché un po riesco a orientarmi ma non è certo il mio campo comunque scusami io io voglio voglio far vedere se riesco adesso vediamo se non riesco a condividere la urla forse passiamo direttamente a parlare di realtà virtuale perché poi anche sarà far vedere rischiamo che poi si incricca tutta la live parliamo di realtà virtuale la realtà virtuale se uno va anche semplicemente su wikipedia si accorge che sono 70 anni che inizia a balenare quest'idea no forse addirittura prima nella narrativa non lo so però sicuramente nei fatti ci sono già i primi tentativi di creare un luogo staccato dal mondo dalla realtà attuale quindi trovate per esempio nel 62 il sensorama che è un macchinario dove tu entri ti avvolge la testa e c'è ci sono delle immagini dei profumi delle cose che ti distaccano quindi in qualche modo questo secondo te è legato con il metaverso con la realtà virtuale potrebbe veramente considerarsi il primo tentativo di di creare una cosa del genere sì sai il punto lì secondo me diciamo la split line è tecnologica nel senso che per realtà virtuale noi adesso intendiamo qualcosa fatto in maniera digitale utilizzando calcolatori però sicuramente tutte quelle tecnologie lì che erano tecnologie analogiche anche voglio dire i simulatori ci sono in giro dei video pazzeschi di simulatori di carri armati fatti tutti in maniera analogica col col plastico e la micro telecamera che va in giro e tu la guidi cose di questo tipo quella dove io tendo a non chiamarla realtà virtuale perché vabbè secondo me la realtà virtuale non può prescindere dalla parte anche perché all'epoca era un concetto molto vago no forse adesso si sta si sta un po come le immagini di delle di mi giorni si sta piano piano sta prendendo fuoco no c'è sta si sta definendo io ho questa immagine della realtà virtuale c'è un luogo ci sono due motivi mi sembra principali c'è uno ci va per non stare qua che o ci va per coprire come se fosse la frontiera dei nuovi luoghi non lo so ho questa visione c'è comunque una sorta di fuga dal punto in cui sei assolutamente sì beh non dimentichiamoci anche tutto il discorso letterario nel senso che poi comunque il termine realtà virtuale in realtà nasce negli anni 90 perché prima prima non esisteva questo simoro la diciamo il nome realtà virtuale lo inventa uno dei padri della realtà virtuale che è jaron lanier con il suo vpl casco guanti eccetera eccetera lavorava con la nasa sono le prime immagini che vediamo di quei tipi di affari lì attaccati a un computer però già prima c'era c'erano 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 caschi roba livello a livello proprio filosofico di immaginario è giusto dire che gibson è stato un po quello che lo ha romanzato come sei finito sei andato nella realtà virtuale sei caduto gibson va beh allora è quello che ne parla per primo a livello di fantascienza però tu non puoi dimenticare per esempio l'holodeck di star trek l'holodeck di star trek è realtà virtuale il io annoisco senza sapere però sappilo hai presente star trek non così bene ecco è però però c'è questo affare qui che si chiama holodeck dove loro vanno oppure non so la nei fumetti nei fumetti marvel gli x-men si allenano in una stanza è vero però me lo ricordo è la stanza delle delle dei pericolo qualcosa e comunque sono fumetti vecchi no degli anni ottanta assolutamente sì prima prima degli anni ottanta sì prima e secondo me prima degli anni settanta potrebbero essere i primi beh avanguardistico anche a livello di fumetto comunque come cosa non possiamo non possiamo dimenticare philip dick philip dick è il maestro delle delle realtà alternative assolutamente no philip dick cosa dice la realtà è quella cosa che rimane quando tu smetti di crederci di credere ad essa cioè capito che qui ci sono livelli filosofici se sei io non so se erroneamente lo dicono però siccome c'è un po di paura verso questo mondo poi ne parliamo verso questo nuovo queste nuove tecnologie stanno veramente per cambiare tantissimo nostro mondo molti diciamo magari secondo me erroneamente definiscono la realtà realtà o virtuale come non realtà io dico no è scorretto perché è una realtà c'è appunto diciamo la definizione virtuale proprio per descriverla ma è una realtà anch'essa cioè quello che voglio dire se tu in un metaverso una realtà virtuale fai un'esperienza non vuol dire che quell'esperienza non non sia reale è un'esperienza reale anzi è un'esperienza reale ma magari ecco non è diciamo fatta di materiali ecco di materiali fisici però è comunque reale io potrei innamorarmi in un metaverso come come oggi la gente si conosce si sposa su facebook instagram tinder e sembra abbastanza assurdo no invece è la socialità di oggi su virtual già negli anni 90 celebrato il primo matrimonio in realtà virtuale anzi allora allora non si diceva metaverso perché metaverso un riciccio adesso in realtà si intende il riciccio che mi secondo me interessa la gente è un riciclo sostanzialmente no e allora si parlava di ciberspazio ciberspace ancora una volta ancora una volta no qui abbiamo snow crash di stevenson qui dentro compare la parola nel metaverso in in william gibson si usa la parola ciberspazio è molto lieve la sfumatura nel senso che il metaverso di snow crash a più una diciamo una dimensione sociale lì veramente la gente il focus della faccenda è incontrare la gente mentre invece il ciberspazio di william gibson è un'altra roba una roba diversa allora io io ti interrompo un attimo volevo dire la chat che se volete fare delle domande fatele magari mettete il messaggio in evidenza così le noto e possiamo anche perché comunque mi piacerebbe che anche durante la live ci fosse un po di interazione perché se no poi io io sono quando l'ospite vado dritto come un treno però penso che sia carino anche che se qualche domanda magari è qualche domanda che mi sono segnato io però se arriva dalla chat preferisco buonasera andraste buonasera quelli che sono arrivati anche dopo ok è interessante questa cosa perché lato tuo che questo universo lo hai sempre monitorato diciamo no stalkerato lo appena usciva la notizia vel te la scambiavi con i tuoi amici ancora adesso vedo che lo fai ogni notizia tecnologica robotica intelligenza artificiale è virtuale siete lì che discutete o trollate un po anche perché spesso sono bufale spesso sono cazzate spesso sono ricicloni no di ancora di più adesso è micidiale adesso non passa giorno che non succede una cosa che fa noi stessi facciamo fatica a capire il discorso sull'intelligenza artificiale attuali è una cosa fantascientifica ma veramente anche chi ci lavora nel senso che il discorso della della IA reale quindi le cose reali già sono difficili da capire oggi in quel senso devi avere nel senso i media avranno molte difficoltà a riportare correttamente le notizie i media non riportano già non lo fanno già non lo fanno i media non capiscono un cazzo di quello che sta succedendo assolutamente questo è preoccupante perché se mi dici è un discorso dove noi che lo seguiamo da tanti anni facciamo anche un po' di fatica ma lo capiamo figuriamoci noi invece dall'altra parte che fatica a capire questi argomenti per questo io ci tengo a fare questa live per far capire scusami per capire anche a chi è un po' meno esperto che io credo una cosa uno che è arrivato il momento però un pochino che tutti debbano capirne qualcosa perché in ballo c'è il futuro proprio inteso come sopravvivenza il futuro è inteso come sicurezza intesa come sicurezza di se stessi della propria privacy della propria ma proprio anche fisica e poi anche dell'informazione che diventa rischiosa diventa pericolosa a livello politico vediamo anche che oggi le elezioni si giocano tutte sui social cioè è inquietante sta cosa quindi dobbiamo iniziare secondo me a dire no dobbiamo capirne tutti dalla Shura perché non è più qualcosa che è di Aaron e quel gruppo di diciamo esploratori ma è di tutti ormai no? sei d'accordo su questo? assolutamente sì assolutamente sì è un po' la questione che c'era una volta del l'ha detto la televisione e quindi è vero poi è diventato l'ha detto il computer e quindi è vero adesso sta diventando lo dice l'intelligenza artificiale quindi è vero non è così non è così dopo faremo un po' di giochini con chat GPT GPT3 eccetera eccetera ok allora cerco di andare veloce così lasciamo anche quanto pensi che ci voglia fare un esperimentino di metaverso e anche qualche giochino con la chatbot il chatbot intendi? quello con dietro l'eo e cosa vuoi far vedere? quello è anche midjourney? perché un credito su midjourney dovrei averci ancora non so quanti dunque ma no midjourney non me l'ero sinceramente no vabbè non importa non importa midjourney comunque è molto semplice lo potete provare anche poi vi spiego un attimo come funziona comunque una mezz'oretta basta secondo te? sì no ok no perché mi devo un po' aggiustare anche le cose che ho da chiederti allora no no infatti interessante se rimanete vi facciamo vedere un ambiente dimmi se è corretto che simula un po' quello che sono i metaversi è un ambiente gratuito che potete anche poi vi lasciamo il link è un ambiente che potete testare insomma iniziare tramite un oculus anche quindi è proprio e lo vediamo insieme così capite un po' quelle che sono le possibili applicazioni di questa applicazione perché poi fondamentalmente ricordiamoci una cosa che midjourney chatbot e questo sono delle applicazioni no? certo poi dopo a seconda l'applicazione usa o meno l'IA quindi l'IA è un pezzo dell'applicazione fondamentalmente assolutamente sì ok allora cito soltanto Second Life perché sembra che hanno inventato il metaverso oggi invece Second Life è praticamente quello senza il visore no? cioè la possibilità di creare socialità ambienti luoghi luoghi dove le cose accadono realmente ricordiamoci perché se io creo un concerto su Second Life è avvenuto veramente quel concerto non è che non è reale è reale nel suo modo nella sua maniera cosa ne pensi di Second Life perché non è andato avanti visto che poi ci stiamo tornando questa è una palla che stanno raccontando tutti quanti perché devono dire che adesso il metaverso eccetera eccetera Second Life esiste ancora e fattura 75 milioni di dollari l'anno da lavorare a sì sì ecco io sono io sono il classico e beota che crea no no ma te lo dico te lo dico con tutta la metà del mondo cioè sono perché comunque non si può essere critici sempre su tutto quindi io su quello magari sul cinema lo sono ma su quello lascio che ah ok Second Life non lo sa più nessuno io ci credo tutti parlano del flop di Second Life ma se io avessi un'attività che fattura 75 milioni di dollari l'anno non la chiamerei un flop certo certo infatti e poi soprattutto penso che loro adesso con l'integrazione di Loculus e queste cose qua probabilmente sono avanti anni luce rispetto agli altri allora come esperienza dico no come mica tanto perché allora lì c'è stato proprio la scelta la scelta conscia di di Rosedale e Andreica che sono stati i fondatori di non integrare dispositivi immersivi e non l'hanno mai fatto e ancora adesso Second Life non supporta Oculus sono rimasti un po' indietro si sono un po' diciamo creato si 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 capito hanno cristallizzato la loro community e giocano sul tenersi quella community affezionata fondamentalmente che comunque è una community gigantesca quindi esistono esistono dei negozi esistono degli eventi esiste una moneta esiste una moneta interna i linden dollars c'è gente che ai tempi lavorava e cioè portava a casa la pagnotta lavorando su Second Life costruendo oggetti digitali per gli avatar c'è c'è un mercato della moda su Second Life c'è gente che disegna gli avatar disegna i capelli per gli avatar tutte queste robe anche nel mondo dei videogiochi no? si poi adesso comunque molti videogiochi per esempio addirittura sono gratis e campano di appunto oggetti che puoi comprare nel gioco esattamente quindi adesso poi io per rispondere a Meta che dice le persone non sanno che cosa sia il machine learning che pensano alla IA come a un'intelligenza simile a quella umana poi dopo ci arriviamo a come funziona andiamo se volete fare delle domande mettetene evidenziate per favore allora cerchiamo di andare un po' più telegrafici perché ho capito è già passata mezz'ora ti dico solo questo che cos'è che cos'è il metaverso fondamentalmente cioè nel senso che bisogna far capire il concetto proprio di quello verso cui stiamo andando come lo si spiega però non solo a me ma anche la sciura no no infatti allora la sciura è la signora per chi non conoscesse il diario prima di tutto c'è da dire una cosa che adesso tutti parlano del metaverso come se fossero solo ma questa cosa non è vera in realtà quello che sta succedendo è che stanno nascendo decine centinaia di metaversi con la M minuscola perché un bordello di società ognuna si sta facendo il suo metaverso a seconda del core business della società cioè se io sono Nvidia ed Nvidia è un colosso mondiale del calcolo quindi ha le schede lunghi e mezzo metro eccetera eccetera si costruisce come sta facendo un metaverso che si chiama Omniverse che è una roba mostruosa dove puoi fare simulazioni scientifiche eccetera eccetera grafica ad altissima risoluzione tutte le robe perché a Nvidia interessa vendere l'hardware di Nvidia ok e fare roba scientifica altra gente cioè se tu parli con uno che lavora nel mondo della finanza quando ti parla di metaverso ti dirà che nel metaverso ci deve essere la blockchain ci devono essere le criptovalute ognuno la vede dal punto del suo business fondamentalmente per forza per forza non è solo business no ricordiamolo che per adesso sembra c'è quello che sta nascendo e chiaramente aziende che si buttano dentro a questa cosa e per cui l'altro giorno io e te cacchieravamo sul fatto che sembra fondamentalmente un internet 3D cioè virtuale ogni ambiente meta è come se fosse il sito o la landing page di un prodotto o di un'azienda mentre invece in realtà ci sono tantissime applicazioni di questa cosa che sono interessantissime però per ora diciamo chiaramente loro ci vedono del business e ci si buttano che penso sia giusto insomma sì del business ho comunque uno scopo lo scopo può anche non essere necessariamente di business quello che noi andremo a vedere che è Mozilla Labs è fatto da Mozilla Corporation Mozilla sono quelli che fanno Firefox quella applicazione lì è concepita come se loro fossero un lab quindi nessuno scopo di lucro semplicemente non trovarsi troppo in ritardo su una tecnologia quindi loro stanno sviluppando questo così quando è pronto ok esattamente è tutto open source secondo me tra l'altro anche a livello l'IA ma come la realtà aumentata di cui parleremo anche un pochino sono anche applicabili non tanto come solo vetrine dove faccio ma anche come miglioramento di un prodotto che ne so io compro le scarpe le indosso vado in una casa affitto una casa ci entro con un VR ci possono essere tantissime applicazioni del VR e della realtà aumentata anche a livello proprio di utente cioè di miglioramento esperienza utente nell'acquisto nel l'idea è quella alla quale tantissimi stanno puntando ti dicevo il metaverso quindi per ritornare ci sono alcune cose che caratterizzano quello che è un metaverso la prima di tutto è questa cosa qui che ci deve essere uno scopo un motivo per cui il metaverso deve esistere e a seconda che tu centri o meno questo motivo avrai un'adozione diversa cioè anche Fortnite di Epic è un metaverso alla fine perché è un affare non è necessario che uno abbia un casco in testa perché noi possiamo parlare di metaverso il metaverso lo puoi fruire anche attraverso altri device tra l'altro Fortnite è multiplatform che si avvicina al concetto di metaverso no? assolutamente unisco unisco realtà diverse tipo Playstation Xbox PC Steam tutti in un unico ambiente esattamente sì lì lo scopo è quello di spararsi dietro però capito che cioè se il metaverso ha uno scopo è più facile all'inizio chiamare della gente perché nessuno entra nel metaverso di meta di Zuckerberg Zuckerberg ha appena licenziato 11.000 sviluppatori 11.000 perché? perché dovevano andare tutti a casa di Zuckerberg che ha investito billions of dollars e invece fa fa 200.000 200.000 utenti al mese Fortnite fa 200.000 milioni perché non c'è una ragione perché non c'è una ragione perché uno dovrebbe cioè non capito sì sì all'inizio devi dare un motivo alla gente per utilizzare una tecnologia se no la tecnologia non viene non viene adottata non viene non viene utilizzata ed è un errore che stanno facendo tantissimi con questo discorso del metaverso comunque tornando indietro un attimo metaverso altre altre cose importanti da capire che cosa sono sono uno che i dati che tutti i dati che ci circondano se noi li pensiamo in maniera tridimensionale sono più naturali quindi c'è un po' questo concetto nell'evoluzione dell'informatica ci sono stati tanti paradigmi per parlare di dati all'inizio si utilizzava la console per cui tu scrivevi tutto a console poi dopo sono nate le interfacce grafiche 2D è nato il Macintosh eccetera eccetera una delle ultime robe che sono arrivate è questo concetto dello spatial computing quindi il computing spaziale i dati intrinsecamente tridimensionali per cui la fruizione tridimensionale dei dati che ci circondano quindi con la geolocalizzazione eccetera eccetera è una roba estremamente interessante perché se tu hai un oggetto c'hai lì l'oggetto e hai il modo di raccogliere i dati che i dati relativi a quell'oggetto e piazzarli su quell'oggetto lì chiaramente hai una fruizione di questi dati molto naturale e questo apre la porta a tutta una serie di robe cioè tu vai in un museo vedi un quadro e i dati relativi a quel quadro chi è chi l'ha fatto eccetera eccetera sono localizzati dove c'è un quadro capisci? questo è un po' detto veramente male però è un po' lo spatial computing e quindi questa è una delle cose fondamentali del metaverso l'altra è il concetto di reality continuum quindi tutto quello che va dalla realtà completamente reale alla realtà completamente virtuale passando nel mezzo quindi la realtà aumentata la mixed reality eccetera eccetera diversi layer di informazione che vengono sovrapposti alla realtà in modo da avere tutte queste variazioni di tecnologie che poi vengono chiamate genericamente metaverso realtà virtuale dove è tutto digitale realtà aumentata dove tu hai un layer di realtà hai un layer di informazione che viene sovrapposto alla realtà attraverso dei device eccetera 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 quindi sostanzialmente questa è la mia definizione di metaverso la nostra di Fishbone Creek ci siamo ci siamo ci abbiamo ragionato abbondantemente stiamo scrivendo un libro su queste robe qui noi riteniamo che la chiave un po' per parlare di metaverso sia questa questa cosa qui quindi spatial computing reality continuum lo scopo appunto il fatto che il metaverso deve avere uno scopo allora io ti faccio questa domanda perché così mi viene finito sto discorso mi viene proprio l'istinto di chiederti io quando ho provato l'Oculus ho provato una stanza sì era una stanzetta tecnologica non so per quale ragione solo la sensazione di non essere più nel luogo in cui ero quindi in una casa fisica ed essere in un luogo completamente diverso mi ha fatto sentire sollevato come se come quando che ne so sei un po' brillo perché hai bevuto un po' più birre o ti sei fatto una canna cioè la sensazione proprio di leggerezza di distacco dalla realtà e io ci ho visto quasi una forma di alterazione chimica del cervello simile non all'uso di sostanza nel senso di droga però proprio rilassante cioè proprio un distacco e io nella mia ignoranza perché non sono un psicologo però ci ho visto questo bisogno comunque è una vita estremamente stressante la nostra magari meno fatica cosa fisicamente del contadino ma stressantissima l'idea proprio di essere avvolti in questo spazio completamente diverso dove siamo o altro è molto non lo so non so se è terapeutica o potrebbe essere o potrebbe non esserlo però è interessante come sensazione cioè questo è già un motivo secondo me per usare il metaverso cioè se uno trova un modo per renderlo uno spazio dove si ascolta della musica in mezzo che ne so a una spiaggia alle Maldive pinta chiaramente ma il suo cervello comunque la percepisce come semivera quindi ne beneficia in qualche maniera a livello a livello reale chimico no? allora se esistano degli studi di questo tipo non te lo so dire però sicuramente cioè ci sono due concetti collegati a questa cosa qui una è il concetto di immersione e il concetto di presenza cioè sicuramente quando tu entri in una realtà virtuale ti viene richiesto qualcosa che in realtà succede anche quando leggi un libro o quando vedi un film ti viene richiesta una suspension of disbelief una sospensione di incredulità ti viene richiesto di dimenticarti dove sei tu realmente e di abbracciare abbracciare le regole di un nuovo gioco diciamo così no? e diciamo che la stimolazione dei sensi tipo visivo uditivo eccetera serve cioè il casco diciamo serve proprio a facilitarlo all'ennesima potenza cioè tu non devi sforzarti o lo scrittore regista per esempio citando anche il film non deve sforzarsi essere bravissimo a tirarti dentro la storia perché tanto tu entri in un'ambientazione se è fatta bene è realistica il tuo cervello ti dice che è realistica e ti butta dentro nel caso nel caso delle realtà virtuali immersive chiaramente questa immersione ti aiuta moltissimo a operare questa sospensione di incredulità il discorso invece della presenza è completamente soggettivo c'è gente che sperimenta quello che hai sperimentato tu ci sono altri invece che non riescono a capire che cosa sta succedendo e non vedono al di là c'è una sorta di distacco sì esatto cioè quella è assolutamente loro vedono un monitor vicino agli occhi fondamentalmente ok sono due cose completamente diverse ma potrebbe avere a che fare a come è fatto il cervello di uno piuttosto di un altro è il portato di ognuno di noi è la vita di ognuno di noi però diciamo che tendenzialmente però quello che fa la maggior parte delle persone è immergerle tendenzialmente cioè diciamo se no non ci sarebbe questa spasmodica ricerca di farlo se fosse minore il numero di persone che ha questo effetto sì no in generale sì attenzione c'è anche un'altra cosa da dire che come tutte le tecnologie tu devi un minimo imparare ad utilizzarla nel caso della realtà virtuale la cosa interessante è che tutto quello che ha intorno diventa interfaccia tu sei tu sei un designer quindi capisci la potenza intrinseca di questa cosa qui cioè tu puoi costruire un mondo dove qualsiasi tu puoi far fare quello che vuoi a qualsiasi cosa beh il concetto è che anche la realtà è interattiva se io prendo un bicchiere e lo lancio contro un muro si rompe esattamente è il fascino della realtà per cui se la ricrei nel virtuale il virtuale si avvicina a quel fascino sì ma attenzione perché questo questo ti porta anche ad altre considerazioni filosofiche tipo io ai tempi dei tempi feci una piccola litigata con un con un architetto quando lavoravo sulle macchine virtuali dove dovevi stare lì a contare i poligoni uno per uno perché non è che ci fosse la potenza di calcolo che c'è adesso cioè veramente eri limitatissimo questo mi faceva le gambe dei tavoli io mi incazzavo perché dicevo guarda che il tavolo sta sullo stesso non mi mettere le gambe perché quelli sono 50 poligoni e io mi cala di due frame al secondo la velocità di rendering sono tanti capito cioè sembrano sembrano stupidaggini però il fatto di essere ancorati alla realtà reale quando noi disegniamo degli spazi virtuali è assurdo possiamo fare quello che vogliamo possiamo il bicchiere tu puoi lanciarlo contro il muro ma puoi anche fare che può avere diciamo una fisica diversa può essere una palla esatto ancora una volta dipende dallo scopo che tu vuoi che tu vuoi raggiungere io se non allora se non crasha il computer vorrei far vedere un'immagine vedo se riesco a condividerla aspetta che presenta vorrei far vedere un'immagine per far capire il video per far capire più o meno da quanto così passiamo al discorso dei visori voglio far capire più o meno da quanto appunto tu in realtà veramente cioè ci stai dietro a sta cosa e cavolo eh se puoi qua e anche mentre la multinazionale Thompson si è impadronita di tutti la ricerca la ricerca fondamentale sembra si sia concentrato questo vado direttamente in fondo questa è una trasmissione dell'epoca che si occupava di tecnologia e ti aveva ospitato per parlare di realtà virtuale io volevo far vedere in questo momento era mister fantasy che gomma faceva l'impiato del ciberspazio 5.000 dollari per cui ecco questo è questo è questo è Aaron tantissimi anni fa con questo è interessante perché aspetta che lo faccio sentire un pezzettino così noi possiamo anche sono 5.000 dollari per cui ci sono una serie di cose interessantissime che si possono fare con questo pacchetto con questo pacchetto di R.A.N.T. 86 adesso le vediamo appunto tutto quello che faccio adesso è possibile farlo anche senza occhialini e senza guanto però chiaramente visto che ci sono vediamo un attimino come sia possibile manipolare gli oggetti muoverli 92 detto 1992 di questo passo per esempio una cosa molto interessante è che tra le tante cose viene riconosciuto il tipo di gesto che sto facendo mano aperta mano a pugno fist mano a punta e la mano a punta sarei anche a selezionare gli oggetti anche perché non ti si sente se no tolgo l'audio commenta pure tu Aaron dicevo che questa roba qui era stupefacente all'epoca qui stiamo parlando della nascita della controcultura cyberpunk in Italia gomma raffalvola shake edizioni shake edizioni sono quelli che hanno portato sono questi qui sono quelli che hanno portato in Italia Neil Stevenson Bruce Sterling eccetera eccetera si si ho comprato anche e letto qualche libro cyberpunk di shake cioè la rivista decoder eccetera eccetera tutta quella scena per dirti quando tanto per parlare di cinema visto che siamo qui Nirvana di Salvatores è fortemente è fortemente influenzato da quella che è la scena cyberpunk italiana di quel periodo lì il come si chiama il barista del bar dove va il protagonista si chiama Philopat Philopat era uno di si si Philopat si è un famoso punk che ha scritto anche un po' di libri sulla musica si si il cyberpunk era molto legato diciamo al mondo dell'alternativo musica punk musica elettronica centri sociali perché poi erano quei luoghi dove si poteva autoprodurre materiale come questo libri fanzine giusto quella roba lì era interessante perché era tutto un filone di realtà virtuale a basso costo quindi con device heccati truccati si rifaceva tutto quanto i circuiti interni eccetera eccetera in contrapposizione invece alle robe della nasa ai caschi da 10 cioè ecco guarda questo affare qua questo rimasuglio qua adesso ho smontato un'ottica questo affare qui è costato 8000 dollari capito che non si direbbe visto così eh ho capito però è una è un è un casco del 1993 sì 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 tra l'altro nel video tu avevi un guanto mi faceva ridere che è un guanto di è il nintendo è il guanto del nintendo cioè il nintendo ha la sta periferica che in realtà nel nintendo non aveva il 3d la usava per muovere mandare solo degli input però tu l'hai convertita per muover la mano dentro lo spazio virtuale esattamente incredibile che poi attaccavi al computer con quel software lì che era un altro software era un engine 3d che si chiamava rend 386 erano tutte tutte robe fatte da dei personaggi che le pubblicavano su una fanzine che si chiamava pcvr che era proprio una fanzine che parlava di come fare questi esperimenti di realtà virtuale a basso costo incredibile incredibile e se mi viene da dire però siamo sempre lì eh non è che è cambiato molto la realtà virtuale che c'è oggi ha solo più poligoni perché sono aumentate le potenze di calcolo e quindi anche le mappe che mettiamo sulle cose sono iperrealistiche volendo con un megacomputer si potrebbe fare veramente quasi una realtà identica alla reale ma ormai voglio dire ti parlavo prima di Omniverse delle macchine le macchine di Nvidia questi hanno delle macchine cioè ci sono delle schede di Nvidia che fanno ray tracing in tempo reale perdonami un attimo che c'ho è una roba che avevo un sospetto tu hai possibilità di alzare un po' il tuo volume Aaron il mio volume se puoi alzarlo se no basso un po' il mio del microfono del microfono del microfono nelle impostazioni di Streamyard dovrebbe essere allora aspetta intanto grazie Giorgio grazie sì no avevo questa impressione perché lui entra da Streamyard ed è più basso quindi loro hanno il problema che io quando parlo sono alto e tu sei più basso quindi probabilmente è un continuo ok ok allora io mi abbasso un pelo vedo fammi una allora io adesso ho abbassato un po' il mio così fammi un per favore un feedback tra qualche minuto prova 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 l'ho alzato volume di ingresso lo sto alzando ok adesso ci se ascoltate un attimo tra un minuto ci dite se va bene facciamo al massimo facciamo un aggiustamento allora adesso siamo a dei visori che ce n'è uno per playstation poi c'è oculus oculus 2 così anche per dare un consiglio terra terra per chi è curioso e vuole iniziare a metterci il naso tu consigli l'acquisto di oculus quest 2 o c'è qualcosa di meglio qualcosa di più economico no allora considera che non c'è molta competizione vedo no no ci sono il picco c'è qualcosa però sostanzialmente sono tutti oggetti uguali che costano più o meno uguale per cui non c'è niente di clamorosamente come mai l'hardware è così diciamo mi verrebbe da dire poco potente rispetto a quello che io vedo no nel senso a livello di video a livello di video io vedo le applicazioni con una grafica meno bella di una playstation 5 o di un xbox serie x cioè vedo proprio poligioni più semplici c'è tutto tutto un po' più più vicino che ne so una console nintendo cioè tu non no beh allora le applicazioni che ho visto in oculus le trovo un pochino tip un po' povere di dettagli allora devi considerare che questo affare qui alla fine della fiera è un è tutto lì dentro in effetti allora è tutto qui dentro è una è una macchina android comunque ha una ha un rendering stereoscopico quindi questo deve fare il doppio ah ok ok forse è questo che crea perché la tv chiaramente è un canale cioè manda solo un'immagine invece qua probabilmente quello che percepisco io è dovuto anche alla divisione di di queste risorse in due fondamentalmente no però voglio dire i chip che ci sono dentro sono fatti per fare questo tipo di lavoro però comunque cioè la richiesta di risorse per fare cose di quel tipo lì cioè devono non devi mai droppare sotto un certo frame rate perché se no ti viene la vomita mal di test cosa è che succede? Vomiti ti viene a spruzzo esatto vomiti a spruzzo perché ti praticamente hai uno uno scombinamento tra tra la percezione di quello che vedi e di come ti muovi quindi è proprio allora scusate al giorno ho alzato un po' ancora il volume perché mi hanno detto che io ero basso allora ditemi se adesso vanno bene i volumi parliamo un secondo c'è questa voce che gira di un visore diciamo il classico rumor girano dei fake design di questo oggetto del visore IA IA IR VR ARVR ARVR esatto quindi vuol dire realtà aumentata realtà virtuale nello stesso occhiale tra l'altro i design che però non sappiamo quanto possano essere vicini alla realtà sembrano sembrano quelle gli occhiali da neve degli anni 80 quelli magari fossero così semplici noi magari fossero così piccoli comodi i VR no vabbè però ci arriviamo ci arriviamo anche lì c'è un altro problema c'è il problema delle ottiche per esempio qui le ottiche sono sono delle lenti di Fresnel ok le lenti di Fresnel qual è allora rispetto a questi caschi qui che avevano una avevano un un campo visivo aspetta che te lo faccio vedere eccole lì ok avevano un campo visivo ridicolo cioè quando tu li mettevi li mettevi su veramente vedevi i bordi anche no vedevi i bordi alla grande cioè provo a indossare questo qui ti rendiamo conto cioè capisci che questa roba qui è ridicola io già già così ti vedo fuori capito sì sì qual è stato il colpo di genio di Palmer Luckey che è quello che ha costruito il primo Oculus anzi qual era il problema il problema grosso era che non avevi non si riusciva a costruire delle ottiche abbastanza avvolgenti senza che queste ottiche deformassero l'immagine ok era un casino per cui tutti questi caschi qui vecchi avevano un campo visivo tipo maschera subacquea degli anni 80 veramente cioè era una cosa così non servivano cazzo allora lui che cosa ha detto Palmer Luckey che cosa ha detto adesso abbiamo abbastanza potenza di calcolo quindi noi ce ne freghiamo costruiamo delle ottiche che deformano che sono quelle larghe quindi lenti di fresno e l'auto software le ridimensionano eh? l'auto software le ridimensionano esattamente quelle lenti lì deformano l'immagine ma tu via software le controdeformi e ti viene fuori è un po' come lo stabilizzatore dei cellulari che croppa tutta la praticamente l'immagine viene tutta mossa ma lo stabilizzatore la ricalcola tutta tagliando via le parti che non si vedono e boh no no è fighissimo questa cosa negli anni 90 te la scordavi una roba diciamo che è un po' da ignorante lo dico diciamo che la parte software spesso va a sopperire alle problematiche fisiche delle cose che noi che noi cerchiamo di far evolvere ma lato fisico anche per una questione poi dei costi no perché poi le cose non entrano nelle case delle persone perché costano troppo quindi la realtà aumentata visto che non l'abbiamo detto per chi non lo capisce è quella roba per cui si può usare anche un telefonino si può usare un nintendo 3ds per cui io inquadro con una camera uno spazio reale e in questo spazio tramite dei riferimenti ci posso piazzare un oggetto un personaggio un'animazione che si poggia perfettamente all'interno della prospettiva quindi c'è anche un calcolo della prospettiva della stanza che noi non vediamo cioè che non ci viene visualizzato ma in realtà c'è mi fa rire perché mi è venuto in mente che c'è un'applicazione così sempre di realtà aumentata con i cuccioli e io ho fatto un video a Giona con questo cucciolo di bulldog francese e poi ho mandato il video alla nonna che ha detto oh mio dio avete preso il cane e il cane gira intorno a Giona salta abbaia ed è fatto abbastanza bene poi lei non vedendoci tantissimo bene ha detto oh mio dio avete preso il cane e fa ridere perché è molto carina questa cosa che come te lo immagini un occhiale penso sia vera questa notizia di Apple un occhiale che unisce VR con realtà aumentata come potrebbe funzionare nel quotidiano e nelle applicazioni che lo stiano facendo è in dubbio perché questa cosa qui della realtà virtuale realtà aumentata metaverso eccetera 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 è la prossima grossa cosa quindi è evidente che anche visto che adesso Apple si è messa a farsi processori da sola tutte le nuove macchine c'è dentro M1 sono ritornati alla vecchia architettura per fortuna perché io sono un po' scontento delle prestazioni dei Mac degli ultimi anni assolutamente sì ma infatti sono una bombazza poi a uno può stare più o meno sulle balle Apple per altri motivi però da quel punto di vista Apple in realtà Apple non è non è brava a inventare cose nuove in questo caso qui vabbè l'ha fatta però in realtà anche qui la tecnologia che utilizzano è la tecnologia è brava nel marketing diciamo è sempre stato attenzione non solo vabbè sono seduti su una pila di soldi alta un chilometro per cui quello aiuta aiuta molte cose sono bravi a rendere le cose usabili quindi tutti quanti nell'ambiente ma anche belle direi no anche belle a livello proprio di la voglio avere anche solo perché mi rende be cioè è bello e quindi se ce l'ho sono bello anch'io in qualche maniera quello è anche molto il marketing sicuramente però anche il design va di conseguenza cioè io faccio un bel telefono perché così tu sei un figo se ce l'hai perché quando lo tiri fuori tu tiri fuori un bell'oggetto non tiri fuori un oggetto funziona estremamente perfetto come funzionalità ma fa schifo ecco da lavoratore da professionista quello è proprio un oggetto da che chiunque lo tira fuori e si sente un figo e allora io stavo pensando ma allora un visore Apple forse può essere veramente la cosa altro che altro che Facebook può essere proprio Apple a dire ok adesso lo avrete tutti in casa perché è l'oggetto del momento potrebbe essere una svolta perché con Apple è successo tante volte voglio dire i tablet esistevano prima dell'iPad è arrivata è arrivata tutti quanti gli hanno hanno previsto che Apple con l'iPad avrebbe fatto un buco nell'acqua è arrivata Apple e non ha fatto un buco nell'acqua anzi ha fatto 20.000 versioni di iPad minchia uno l'ha fatto talmente piccolo che sembra un cellulare esatto l'iPad mini i player mp3 esistevano prima che esistesse l'iPad capito certo hanno hanno un track record di cose che esistevano già e che loro hanno fatto meglio l'Apple Watch per esempio io pensavo non prendesse molto invece ne vedo tanti comunque che lo usano è una spesa un po' ancora per pochi nel senso che veramente anche è uno stato simbolo è uno stato simbolo ed è diciamo ti devono avanzare quei 4 non so quanto costa 400 euro perché comunque le notifiche le vedi sul telefono tutto lo vedi sul telefono certo è proprio quel è proprio quel vizio che ti compri per fare un po' più certo però però è comunque è anche questo fa parte un po' di quella cosa ti ricordi quando eri giovane no? e vedevi il Casio con la calcolatrice dicevi che figata quindi questo anche questo orologio dell'Apple è un po' strizza l'occhio a quegli oggetti dei film e della letteratura cyberpunk no? e dentro c'ho faccio così mando il messaggio questo è James Bond ragazzi è una roba una roba bellissima per chi viene da quell'epoca di cioè se tu pensi che in cioè se tu pensi che in tutte le varie serie di fantascienza eccetera eccetera l'unica serie nella quale esiste qualcosa simile a un cellulare è Star Trek il communicator di Star Trek cioè in Matrix non hanno i cellulari in Matrix non ci sono i cellulari in Star Wars non ci sono i cellulari cioè è incredibile questa cosa noi abbiamo bisogno di scrittori di fantascienza perché quelli che sono più carrozzati a predire il futuro non sono i politici che non capiscono un cazzo di quello che succederà tra 5 anni 10 anni sono gli scrittori di fantascienza sono loro che probabilmente riescono a capire cosa ne sarà di noi tra 50 anni Diego dice che in 2001 insieme allo spazio hanno i tablet io non me la ricordo la scena con i tablet però ci credo in 2001 hanno i tablet davvero interessante questo non me lo ricordo mi viene a dire che lo scrittore quando cioè adesso questa è la mia supposizione sul momento lo scrittore di fantascienza o comunque quello che scrive storie che appassionino quando scrive qualcosa pensa al bisogno del personaggio o del quindi in qualche maniera lui è un designer di oggetti anche quindi dice i miei personaggi adesso per fare questa cosa o per la trama hanno bisogno di comunicare e lo chiede il personaggio esatto quindi mi sembra quasi che loro lavorino per tutti gli scrittori di fantascienza hanno lavorato gratis hanno fornito gratis alle aziende un sacco di idee certo beh ma voglio dire ripeto ancora una volta il metaverso che è descritto in Snow Crash è stato preso pari pari ma proprio verbatim da Andrejka e coso come si chiama per fare Second Life è proprio come viene descritto dentro lì è pazzesca questa cosa capito non ha inventato nulla io volevo parlare prima di dopo vorrei fare la prova di metaverso con voi anzi se riesco faccio anche mando già il link in chat per chi volesse entrare se lo vuoi spiegare tu come funziona per chi vuole entrare insomma è un simpatico è un simpatico affare è una stanza fatta con Mozilla Labs niente di niente di che è proprio una stanza presa dalle stanze già pronte gira nel browser quindi non c'è niente da installare anche lì cioè ci sono un sacco di discorsi metaversi metaversi condivisi metaversi proprietari metaversi per i quali hai bisogno di un client metaversi che girano nel browser ci sono cioè se tu parli con 100 teorici diversi ti daranno 100 risposte diverse capito open source non open source eccetera 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 allora se avete un oculus ovviamente l'esperienza è più immersiva non so come funziona con l'occulus però penso che possiate mettere una url dentro oculus e andarci sì oppure semplicemente clicchi su qui quando clicchi su qui ti si apre nel browser e poi c'è un enter on device dove ti dà un ti dà un affare ok allora se allora adesso noi piano piano ci prepariamo per entrare così tu ci puoi vedere se voi volete entrare il link in chat potete andarci con un cellulare con un tablet o con il vostro computer in un'altra pagina del browser e e noi praticamente vi vedremo dentro la stanza questo metaverso e vedrete anche Aaron fare delle cose e le vedremo anche in live quindi se volete entrare ci fa piacere se no entriamo io e Aaron io entro con il mio tablet e così vi facciamo vedere intanto ve l'ho messo dentro si poi vedo un lake duck 10501 in room è già entrato qualcuno bene dai vi voglio un po' attivi ragazzi perché secondo me una live così non è proprio da tutti i giorni è la possibilità comunque di capire meglio queste cose provarla intanto ti faccio lo share condividi ok ti sto condividendo ti sto condividendo lo screen allora così aspetta che chiudiamo questo qua ok fermo qui lo stai sharando l'affare no allora adesso lo sharo ok un attimo allora un sacco di gente allora ragazzi questa è vediamo un po' io sono non so perché non mi fa entrare è importante che entriate voi grazie a quelli che sono entrati allora adesso vi facciamo vedere ci potete gironzolare tu Aaron sei dentro no non ancora c'è dentro col browser ok senti dentro come hai fatto vedere prima me che facciamo vedere un poco sì sì allora cosa si può fare con questo tipo di metaverso ripeto questo metaverso è è di Mozilla e quindi loro sostanzialmente stanno ragionando su che cosa può può diventare questa tecnologia nel futuro è tutto open source ci lavora un po' di gente eccetera sentito del rumore va bene sì chiedo a tutti quanti di mutarsi ok mutatevi dentro al metaverso ok perfetto a che cosa serve questo tipo di metaverso qui hai audio spazializzato quindi è una chat audio puoi fare drag and drop di documenti ti compaiono nel metaverso è sostanzialmente un metaverso dove dove fai riunioni cose di questo tipo eccetera eccomi eccomi guarda guarda ecco l'ha il gont quindi per esempio adesso io prendo un bel un bel non puoi farlo non puoi farlo col visore così ci fai vedere com'è no beh prima allora adesso sto facendo drag and drop di una di un jpeg proprio sulla finestra del browser ok è mollato ed è comparso lì dentro adesso col visore invece entro e lo sposto così allora ricordiamoci che questo questa cosa che tu hai messo potrebbe essere anche un video quindi eventualmente un film possono mettere dei video sì ecco questa è una delle frontiere dell'intrattenimento effettivamente eh ma io adesso sembra che questo è un canale horror tu lo sai sembra che io parli di una roba che non c'entra in niente ma in realtà c'entra tantissimo perché l'immersività e anche la socialità poi cambierà un po' e potrebbe anche essere che un giorno quando tutto questo sarà anche un pochino più smart noi ci vedremo un film insieme se per esempio immaginate il watch party che è questa modalità di prime o forse di prime per esempio però c'è anche in altre parti la possibilità di vedere insieme un contenuto di prime video è una roba che sta andando un giorno potrebbe essere in un metaverso magari vostro addubbato come piace a voi customizzato da voi con tutto quello che vi interessa insomma ok io ho le mani e voi no perché io chiaramente ho dei controller perché sei il boss del metaverso io sono il boss del metaverso quindi diciamo che tu puoi prenderci a schiaffi e noi no questa stanza l'ho fatta io quindi ho i diritti per esempio di fare chi ti voglio eccetera veramente posso creare degli oggetti posso fare un po' di robe puoi agitare le mani così ti vedono fare qualche anche nel video nella cam anche nella webcam così si vedono ok esatto ecco così vedono anche la simultaneità della cosa aspetta facciamolo piccolo sto 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 a fare qua così almeno lo trasformiamo in un ok in realtà lo potete prendere anche voi ma noi ascoltarono adesso la butto lì se non riusciamo non lo facciamo ma se noi se io spengo il mio e il tuo microfono sì e mettiamo i microfoni della stanza si possono sentire le altre le voci di chi è dentro se si smutano anche loro sì proviamo dai dai allora facciamo così se c'è qualcuno che vuole salutare dire qualcosa io adesso tra l'altro mi ha buttato fuori vabbè piccolo conveniente tecnico allora mi metto in muto mi metti tu in muto su Streamyard allora io posso già mettermi in muto perché ok proviamo quindi io mi smuto e io mi smuto da no ti metto io da qua ecco io mi sono smutato infatti no 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 ok aspetta aspetta prova prova come mai c'è questo rientro ah perché devo mutare però qua sono mutato ma io in teoria se ti muto da streamyard dovrei sentirti dentro la stanza ok prova ok c'è uno strano ritorno ovviamente quando si fanno queste cose è un po' un casino c'è un microfono di troppo non capisco da dove rientra allora noi abbiamo la stream abbiamo la condivisione che ha l'audio non lo so però mi piacerebbe sentire se qualcuno può dire una roba che non si è un po' un casino farlo adesso perché col fatto che ce la direi comunque voi immaginatevi una stanza dove dove le persone possono ciao ciao Davide ciao chi sei Davide ciao ti sento grande grande che figata ragazzi non ho capito chi sei Davide e appena accendi qualcosa rientro vabbè allora un bel amico di Aaron ah grande grande piacere grazie per aver partecipato all'esperimento ah Dardo sei tu capito Aaron mi senti? ho capito perché non funziona perché bisognerebbe interrompere la condivisione in stream e però a quel punto non vedrebbero niente facciamo così torniamo facciamo un rollback e torniamo alla condizione precedente così va meglio? si adesso non rimbomba più che figata raga allora il problema di farvi vedere come funziona è legato al discorso che ritornano dentro tutti gli audio in realtà chiaramente se fate questa esperienza senza streamarla non c'è questo problema Aaron mi senti? mi senti? mi senti? torniamo ok torniamo comunque grazie Davide per aver fatto il tester volevo far capire che dentro la stanza perché io e Aaron stiamo parlando nei microfoni della stream e quindi ah tu non mi senti scusa volevo far capire che dico grazie Davide perché ha parlato dentro la stanza volevo far capire siccome io e te stiamo streamando e uno potrebbe percepire la nostra voce perché stiamo in stream in realtà dentro appunto poi le persone possono parlare ascoltarsi ascoltare e vedere lo stesso lo stesso contenuto multimediale che può essere musica, video eccetera insomma immaginate le applicazioni quante possono essere io ti faccio un esempio di una roba che mi è venuta in mente un festival di cinema horror io sai che ho un festival fisico potrei farlo anche virtuale esatto di cui tu hai la tiscia potrei farlo anche virtuale dove la gente entra e vede il film dentro il mio spazio quindi anche con chiavi d'accesso biglietto quello che è insomma e in questo spazio poi ci sono un sacco di altre cose che si possono fare tipo per esempio ci sono ci sono le reaction che non abbiamo fatto vedere però all'interno ci sono addirittura le reaction come se fossimo in qualsiasi altro social o chat tipo poi materializzare degli zombie e robe di questo tipo esatto adesso però è venuto fuori è venuto fuori troppo grosso lo zombie è baggato è baggato vabbè ma comunque chiaramente questo è solo un ambiente gratuito cioè essendo che pre è anche molto molto light però appunto gli sviluppi futuri saranno adesso tolgo la condivisione perché secondo me è stato comunque molto utile la volevo farvi vedere il sito il sito è questo qua ok ah l'hai tolta vabbè no no l'ho rimesso l'ho rimesso il sito è questo qua a questi signori qui appunto in mozilla se andate su try our demo create room create una stanza al volo eccetera eccetera e uno ci gioca eccetera eccetera all'inizio basta basta mandare in giro il link questo qui si può cambiare la scena qui ci sono veramente tonnellate di scene tipo non so via visto che siamo ovviamente per me è scelto un dungeon cioè un luogo di torture mi sembrava significativo allora a parte per esempio adesso io ti ho fatto già un esempio di un'applicazione di questa applicazione appunto che non è per forza commerciale ma è sociale tipo io faccio un festival ma può anche essere non solo un festival cioè io e te e un gruppo di amici tutti i venerdì ci guardiamo un film dentro lì e poi a seconda di quanto è sviluppata la piattaforma ci saranno più o meno interazioni cose semplicità d'uso quindi secondo me è molto divertente già così non ci vedo in realtà poi quando la conosci la cosa e la scopri non è così distopica come sembrano raccontata dal TG5 o che ne so da un che loro fanno il servizio non è che stanno proprio a approfondire no quali secondo te quali altre applicazioni non commerciali perché quelle commerciali lo sappiamo uno fa al concessionario e dentro ci sono le macchine ci puoi girare intorno le puoi aprire sederti vedere come sono dentro cioè che è interessante per carità però ci sono anche altre possibilità secondo me ma allora qui ritorno un attimo al discorso della mia società assolutamente parliamone perché ha interesse Fishbone Creek in realtà è una società che esiste dal 2004 è nata come un pool di autori televisivi televisivi poi attraverso varie vicissitudini uno dei soci ha deciso uno dei soci che è il mio attuale socio Alessio Mazzolotti ha deciso di voler andare in una direzione del digitale mentre gli altri soci invece erano interessati al discorso comunque televisivo quindi si sono si sono divisi in maniera assolutamente amichevole il mio il mio attuale socio ha tenuto le quote è andato avanti poi ci siamo incontrati ci siamo incontrati a Torino nel 2007 proprio a una conferenza dove si parlava di Second Life di mondi virtuali eccetera eccetera lui stava scrivendo una trasmissione proprio su Second Life della quale poi hanno fatto un pilot ma poi non è non è mai stata messa in onda e poi niente sostanzialmente ci siamo ci siamo ritrovati d'accordo su un sacco di cose e abbiamo visto che c'era una sinergia molto forte perché io sono un tecnologo cioè nasco tecnologico ma mi sposto verso il mondo della letteratura dell'arte eccetera eccetera lui invece è simmetrico perché lui nasce drammaturgo scrittore eccetera eccetera e però è molto appassionato di tecnologia e ci capisce anche molto quindi abbiamo deciso che si potevano fare molte cose quindi la società in realtà nasce come una società di creazione è una società creativa è una società dove noi scriviamo scriviamo contenuti e solo in un secondo tempo cerchiamo di capire come rendere tecnologici questi contenuti ma sempre considerando la tecnologia come una commodity quindi a seconda della tecnologia del momento di che cos'è più sviluppato eccetera eccetera cerchiamo di vestire queste idee mi viene da dire invece che si stanno vedendo invece degli esempi di corsa alla moda del momento esattamente quello che noi non vogliamo fare nel senso che non è che tu adesso va di moda il metaverso allora per forza devi convertire il tuo prodotto in quella cosa lì ma piuttosto usare la tecnologia più giusta per il tipo di obiettivo che hai c'è un sacco di gente che dice siccome adesso va di moda il metaverso io qualsiasi cosa faccia lo faccio nel metaverso ok è una cosa cioè è proprio quello che siccome c'è un martello allora sono tutti chiodi capito prende la vite e la picchia dentro nel muro col martello questi sono gli esempi che capisco anch'io quindi vanno benissimo allora io ho questa idea qua che il metaverso comunque non è una bellissima applicazione dove tu puoi metterci dentro quello che vuoi farlo bene o farlo male come abbiamo spiegato e questo è fighissimo e non lo trovo assolutamente distopico poi se uno fa una prova riesce a capirne il valore non credo che tolga che tolga la diciamo fascinazione a fare cose negli ambienti reali cioè non è che non è che siccome io posso fare un festival virtuale allora quello reale muore è chiaro che può essere l'alternativa se c'è il covid per esempio o può essere l'alternativa per chi non può viaggiare quindi per accorciare le distanze può essere la la salita fammi fare questo esempio romantico la salita per i disabili per chi non può venire perché ci sono troppe distanze cioè troppi ostacoli per la sua disabilità ci sono tante cose che sono interessanti e la parte distopica cioè allora finiremo tutti con un visore in faccia la parte distopica in realtà io la vedo già nel mondo moderno cioè voi se andate in metropolitana non vedete già la gente con il monitor del cellulare sulla faccia quindi quel problema c'è già ed è un altro problema non ha niente a che vedere con il metaverso sei d'accordo come la vedi sono assolutamente parzialmente d'accordo nel senso che ci sono delle bellissime foto degli anni 50 dove c'è la foto nel vagone della metropolitana e 50 persone ognuna delle quali legge il giornale quindi capito anche quando non c'era il telefonino noi andavamo in metropolitana e ci leggevamo il nostro giornale non avevamo nessuna voglia di parlare con quello di fianco o di guardarci intorno stando zitti esattamente quando tu vai in metropolitana se lì sta andando in ufficio c'hai i coglioni girati e non c'è voglia di capito quindi diciamo è un po' una cosa fatta e detta per creare timore per creare ma sì assolutamente sì comunque per tornare al discorso c'è una diciamo c'è un c'è un metro c'è un metro di giudizio abbastanza interessante nel mondo della realtà virtuale che ti dice quando dovresti usare la realtà virtuale che è riassunto in un acronimo DICE come dado in inglese che sta per dangerous impossible counterproductive e expensive quindi dovresti usare la realtà virtuale o quando quello che vuoi fare è intrinsecamente pericoloso quando è impossibile quando è controproducente tipo se tu vuoi fare una simulazione di quello che succederebbe sulla terra distruggendo tutti gli alberi non è che lo puoi fare veramente cioè capito sarebbe controproduttivo distruggere tutti gli alberi del mondo oppure expensive quando una roba è troppo costosa per farla davvero allora la facciamo in realtà virtuale ma in tutti gli altri casi cioè cercano di venderci il concetto che uno dovrebbe sai la pubblicità di meta quando ti dicono un giorno gli studenti studieranno grazie alla grazie a metaverse i studenti faranno questo questo e quest'altro perché adesso davanti a un bel monitor largo non possono farlo se si non cambia molto poi bisogna un attimo prenderle con un grano di sale queste robe qui perché non è che il metaverso la realtà virtuale queste tecnologie sono la soluzione sono la panacea di tutti i mali cioè se tu entri se tu entri in un museo e hai la comodità di inquadrare un quadro di sapere tutto di quel quadro lì quella roba lì è una figata ok però è anche vero che se ci cioè ci puoi mettere sotto un cartello cioè sono forse forse la distopia io la vedo nel momento in cui c'è già questa distopia in realtà nel momento in cui tu ciò che accade ciò che sono gli eventi avvengono solo in un mondo virtuale tu non puoi mancare da questi eventi perché si senti escluso dalla società quindi già adesso noi se stiamo lontani da facebook lontani da instagram lontani dai nostri dalle nostre bolle ci sentiamo di essere fuori ci sentiamo di essere fuori dal mondo quindi la distopia sta nell'essere costretti in un certo senso a seguire la socialità dove va quindi se la socialità un giorno sarà effettivamente dentro un metaverso se noi vogliamo esserci dobbiamo esserci ci sono cazzi però nessuno ci obbliga fondamentalmente io conosco tanta gente con un nokia 3310 non proprio quello perché non funzionerebbe però c'è la versione moderna del nokia 3310 che non fa niente quella che usano gli spacciatori fondamentalmente e non è interessata tutti vivono tranquilli cioè chi non vuole vivere nei mondi virtuali lo può fare tranquillamente c'è ancora tanta vita fuori insomma quindi non la vedo non la vedo distopica poi c'è anche secondo me un tema che mi interessa e voglio capire come si evolverà nel metaverso noi abbiamo degli avatar dove si azzera tutto quanto cioè se noi siamo senza gambe nel metaverso non siamo senza gambe se noi siamo neri nel metaverso noi non siamo neri noi siamo quello che vogliamo essere quindi si appiana tutto e anche l'età cioè ogni cosa diventa opinabile cioè tu potresti essere chiunque anche questa è una vecchia battuta che non so se conosci no? già agli albori di internet c'è una famosa vignetta di due cani davanti a un computer e uno dei due cani dice all'altro cane su internet nessuno sa che tu sei un cane è famosissima questa battuta non lo so internet nobody knows you're a dog se la cerchi c'è anche una pagina di questo video bellissima eh sì è famosissima ma l'avrai vista senz'altro eh ma è interessante perché da una parte da una parte cambia le interazioni sociali nel senso che ma questo io lo vedo anche già nei social normali cioè io per esempio se uno viene qua su twitch e c'ha 12 anni e mi dice per esempio cosa che possono anche capitare perché ci sono dei troll eh vecchio di merda mi stai sul cazzo io volendo potrei dirgli cosa che in realtà faccio tu stai mi stai ancora sul cazzo vattene a quel paese però se fossi davanti a lui e mi rendessi conto che ha 12 anni non gli direi niente certo è strana sta cosa perché veramente c'è l'anonimato che qui su twitch per esempio ritorna come ai vecchi tempi sui forum su dove non esiste adesso il concetto di identità social arriva con facebook no più o meno adesso si sta un po' cancellando perché le persone sono tornate all'uso dei nickname all'anonimato all'avatar eh perché si sono stufati di svendere la propria identità le proprie informazioni e qua su twitch ognuno ha un nick chiaramente chi vuole si mette nome e cognome chi vuole si chiama superman 50 che ne so e io mi chiamo Babel Edunit da 30 anni esatto su internet non è è anche questo uno dei dettami del cyberpunk cioè il problema dell'identità cioè ci sono problemi etici c'è un sacco di c'è un sacco di roba da considerare il fatto delle gambe che dicevi anche lì voglio dire il fatto di quanti soldi siano stati spesi da meta per fare degli avatar che hanno delle gambe perché il problema grosso era che gli avatar non avevano le gambe come hai visto gli avatar che ci sono in abs sono degli affari che hanno le mani staccate hanno un tronco eccetera eccetera ti posso assicurare che dopo un quarto d'ora che sei dentro e parli con un panda che però ha la voce del tuo amico tu non ti accorgi più che quello lì è un panda tu stai parlando con il tuo amico si si non ha non ha molto senso io parlavo anche del fatto proprio che una persona disabile all'interno di un ambiente sociale come questo non viene percepita come disabile assolutamente quindi è un abbattimento di pregiudizi e tutta una serie di cose ma come lo stesso discorso dei generi su cui si fanno 3.000 3.000 pippe mentali ma se tu vai in un mondo virtuale e dici che sei femmina sei femmina non c'è puoi anche essere maschissimo super maschio ma se sei in un mondo virtuale decidi che sei femmina sei femmina no nessuno può contestarlo nessuno può saperlo quindi non c'è più tutta quella roba lì ah si tu ti senti femmina però hai la voce da uomo quindi perché chiaramente nella vita reale ci sono tutte queste discussioni retaggio anche della chiusura mentale della nostra società però ecco lì sparisce tutta questa cosa cioè è interessante come allora io purtroppo ci sarebbero mille cose da dire però vorrei passare all'intelligenza artificiale perché se no e poi basta poi basta perché se no non ce la facciamo ti chiedo parlando di intelligenza artificiale prima qualcuno ha detto machine learning e non intelligenza tipo una copia dell'intelligenza umana no cioè tu come come la descriveresti questa cosa che si sta venendo insomma allora per darvi un'idea come come vi dicevo nel 1979 ho visto il mio primo computer nel 1983 mi sono fatto regalare questo libro qua ok che è un libro storico sull'intelligenza artificiale quindi me la meno da tanto 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 tempo questo libro in particolare è un po' difficile un po' per addetto ai lavori però come si chiama scusate il titolo in italiano se qualcuno vuole comparlo si chiama Gödel Escherbach e poi magari Gödel Escherbach un'eterna birlanda brillante di Douglas Hofstadter che è uno studioso di intelligenza artificiale questo libro è molto bello perché ti ti fa capire come l'intelligenza umana sia frutto di è un sistema complesso cosa vuol dire che l'intelligenza umana è un sistema complesso così come tu non puoi spiegare il funzionamento di un formicaio andando a analizzare le formiche uno per uno l'intelligenza umana non è semplicemente tanti neuroni che sparano insieme è qualcosa che emerge dall'interazione di 200 miliardi di neuroni che abbiamo nella testa e che sparano e che in qualche modo che non sappiamo e qui il mondo si divide in due perché ci sono quelli che dicono che un giorno arriveremo a saperlo e altri che dicono che non capiremo mai come funziona la mente umana nel dettaglio io appartengo al secondo gruppo sono i riduzionisti cosiddetti riduzionisti olisti i riduzionisti sono quelli che dicono tutto è spiegabile si tratta di trovare il modello giusto le leggi giuste è una questione di tempo diciamo tutto è spiegabile è una questione di lavoro e di tempo quella è la loro teoria mentre invece la mia visione è proprio una visione dei sistemi complessi un sistema complesso non è riducibile non è che lo puoi spiegare spaccandolo in pezzetti più piccoli è proprio l'interazione tra queste parti che crea dei comportamenti che se tu separi le parti quei comportamenti li scompaiono la mente umana è qualcosa che nasce dall'interazione di miliardi e miliardi di neuroni ma non è che analizzando come funziona un singolo neurone e attaccandone insieme 200 miliardi poi viene fuori la mente umana capito? è qualcosa che emerge è un cosiddetto sistema emergente un comportamento emergente e questa è una delle basi della cosiddetta teoria della complessità teoria della complessità dice che un sistema complesso quindi la mente umana l'economia cioè noi siamo circondati da sistemi complessi la stessa economia ci sono 200 mila teorie economiche ma nessuno ne capisce un cazzo sostanzialmente se tu parli con un economista un economista ti dirà una roba un altro economista te ne dirà un'altra se tu parli con un esperto di intelligenza artificiale uno ti dirà una roba uno te ne dirà un'altra ritornando a bomba poi ci sono quelli che non ne sanno niente dicono una serie di gastronerie anche quelli assolutamente sì assolutamente sì ritornando a bomba ci sono due visioni tutto questo per dire che la mente umana non è riproducibile secondo te la mente umana così com'è non è riproducibile se non ricostruendo perfettamente un uomo perché noi non siamo solamente il nostro cervello noi siamo anche il nostro corpo abbiamo anche un'intelligenza che va oltre per esempio adesso io non ne capisco niente però ci sono organi nostri che funzionano anche senza il cervello in un certo senso che hanno un'intelligenza quasi loro il cuore batte mica perché glielo dice il cervello e a un certo punto al cuore gli gira i coglioni e smette di battere e tu muori capito esattamente facciamo le corna però no questo per dire che appunto il processo di creazione delle intelligenze artificiali secondo te non è un proviamo a imitare l'uomo ma è un altro processo questo che viene fatto allora anche lì ci sono tantissime strade ti stavo dicendo prima ci sono due approcci cioè ci sono due classificazioni fondamentali nell'intelligenza artificiale che sono l'intelligenza artificiale debole e l'intelligenza artificiale forte l'intelligenza artificiale debole è semplicemente qualcosa di operativo costruiamo dei sistemi di intelligenza artificiale che in determinati ambiti si spera sempre più più grandi imitino il comportamento umano e che quindi siano utili a fare qualcosa l'intelligenza artificiale forte vorrebbe invece arrivare all'intelligenza artificiale creando una sorta di copia esatto di un'intelligenza umana grande teorico dell'intelligenza artificiale Alan Turing che dice come facciamo a capire se una macchina è veramente intelligente non c'è modo di capirlo l'unico l'unico cioè non c'è modo di capirlo misurando qualcosa l'unico modo è parlarci insieme in qualche modo e attraverso una chat attraverso quella che oggi noi chiameremmo una chat ai tempi chiaramente lui lo scriveva in un altro chat bot no? un chat bot eh sì lui l'ha scritta nel 46 sta roba non mi ricordo più nel 50 non mi ricordo più quando comunque tantissimi anni fa è un padre dell'intelligenza artificiale Alan Turing peraltro Alan Turing attenzione personaggio dalla storia incredibile non so se ne sai qualcosa c'è un film The Imitation Game no e beh Alan Turing era omosessuale è stato beccato è stato sottoposto inglese è stato sottoposto a delle cure chimiche per cui alla fine cure ormonali eccetera penso ci siano anche nel programma del governo attuale se no sono scherzato alla fine si è suicidato mangiando una mela avvelenata renditi conto cioè una roba una storia incredibile dunque tornando stavo dicendo lui Alan Turing cosa dice noi chattiamo se non riusciamo a capire se dall'altra parte c'è un uomo oppure una macchina dobbiamo necessariamente dedurre arrivare a dire che quella macchina lì è intelligente come un uomo cioè se se non riusciamo a trovare una dimostrazione perché è talmente sì che è talmente intelligente che le sue risposte sono indistinguibili da quelle di un umano capito? sì perché lui dovrebbe a certo punto darti una risposta da computer in un certo senso da computer da macchina qualche volta qualcosa salta fuori capito? quando tu chatti con un chatbot prima o poi dici sì vabbè buonanotte ah sì sì prima o poi ti rendi conto che cioè allora a parte i chatbot stupidi che sono una serie di domande cioè sono domande risposte quindi non sono però il chatbot è quello che fa uso dell'intelligenza artificiale mi ricordi qual è c'è un chatbot del quale stanno parlando di tedesco esatto chat GPT cosa lo ripeti che non si è sentito bene chat GPT GPT esatto lui che è molto intelligente ti accorge a un certo punto che è un bot soprattutto ti accorge che è un cazzaro cioè non è un'intelligenza artificiale fondamentalmente no no è un'intelligenza artificiale è l'intelligenza artificiale più avanzata che esiste adesso però allora di quel tipo di quel tipo perché ci sono vari tipi faccio un attimo un passo indietro ancora ci sono due grandi filoni quando sviluppi un'intelligenza artificiale ci sono le intelligenze artificiali che sono implementate utilizzando proprio dei linguaggi di programmazione apposta per l'intelligenza artificiale per cui vengono scritte delle regole dai programmatori che parlando con gli esperti cercano di catturare l'esperienza degli esperti in regole e di trasferire pari pari l'esperienza degli esperti umani dentro le intelligenze artificiali e questi sono i cosiddetti sistemi esperti qui c'è proprio una parte esplicita ok di richiesta ad un esperto umano c'è proprio il concetto di trasferire il knowledge trasferire la conoscenza degli umani all'interno della macchina cercando di catturare questa conoscenza in maniera esplicita l'altro grande filone invece che è questo qui che è venuto fuori adesso da dieci anni a questa parte quello del deep learning del machine learning eccetera eccetera è una cosa completamente diversa è una astrazione di un cervello umano che impara esattamente come impara un cervello umano cioè sono proprio si chiamano reti neurali sono proprio neuroni ok è modello modello matematico di neuroni per cui tu fai vedere un gatto alla rete neurale gli dici questo è un gatto poi gliene fai vedere un altro questo è un gatto questo è un gatto questo è un gatto questo è un gatto e tutte le volte cosa fa gli fai vedere un gatto e lui butta fuori una roba a caso e tu gli dici dall'altra parte no mi stai buttando fuori una roba a caso mi devi dire che questo è un gatto e lui ripropaga all'indietro all'interno dei suoi neuroni tutta tutta una serie di di pesi di segnali eccetera eccetera la sto dicendo malissimo però alla fine quando gli fai vedere quel gatto lì lui ti dice che è un gatto questa roba qui la fai con un milione di gatti alla fine la rete impara a distinguere il gatto poi lo fai col cane poi lo fai con questo poi lo fai con quell'altro eccetera eccetera alla fine hai una rete neurale che ti sa distinguere un cane da un gatto eccetera eccetera e questa si può definire intelligenza alla fine questa è come impariamo noi questa è come impariamo noi noi impariamo per esempio quando una rete se tu insegni a una rete neurale a declinare i verbi quando gli fai declinare dei verbi che non conosce sbaglia come sbagliano i bambini o gli adulti perché se parli di se parli di verbi secondo me ci sono tantissimi adulti che li sbagliano danneggiando danneggiando le reti neurali in determinati modi tu puoi riprodurre dei problemi neurologici umani quindi si usa questa cosa anche per studiare le malattie no questi filoni di ricerca l'ho letto una volta non c'è nessuno che lo faccia realmente perché poi comunque non c'è un rapporto uno a uno capito il cervello oltretutto cosa succede succede che il cervello umano sono duecento miliardi di neuroni solo da pochissimo noi abbiamo le potenze di calcolo per far girare una rete neurale di dimensioni simili GPT-3 quell'affare sul quale è basato chat GPT e che sta stupendo tutti e sul quale è basato anche mid journey eccetera 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 anche se lì è un po' diversa tutta quanta la faccenda sono reti neurali che sono addestrate su dataset che comprendono praticamente tutta internet cioè mi ricordo un po' ex macchina che viene citato ex macchina fondamentalmente cosa succede? succede che questi affari qui sono dei bambini intelligentissimi ma non hanno il minimo senso critico cioè intelligentissimi intendi che hanno appreso tantissimo sì addirittura parlano scrivono in italiano estremamente corretto perché cioè sono dei sistemi probabilistici loro semplicemente hanno mangiato quantità inconcepibili di testo e quindi hanno imparato anche qual è l'italiano scritto meglio non usare la parola capire questi non capiscono niente nel senso umano semplicemente sanno che prima una certa parola prima di cioè dopo una certa parola statisticamente sta meglio una parola piuttosto che una parola e questa roba qui come comportamento emergente quello che dicevamo prima è un sistema complesso come comportamento emergente fa venire fuori una roba che ti sembra intelligente ma in realtà non ha la minima idea di quello che sta facendo per lui sono solo simboli siamo noi che diciamo che quella roba lì è intelligente perché sembra fondamentalmente scusami ma sta ancora calcolando fondamentalmente beh sì certo cioè non sta ragionando sta calcolando no no non c'è no 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 quindi questa adesso secondo il vecchio dilemma da da 50 anni di più è quando possiamo dire che c'è l'intelligenza artificiale questa è l'intelligenza artificiale adesso ti dico un joke che c'è nel mondo dell'intelligenza di quelli che studiano l'intelligenza artificiale ok l'intelligenza artificiale è tutto quello che non è mai stato raggiunto è tutto quello che non è ancora stato raggiunto dall'intelligenza artificiale quindi se io riesco a fare una cosa quella già non è più intelligenza artificiale perché 20 anni fa dicevamo ah cazzo faremo quando arriveremo ad avere un computer che batte un umano a scacchi quella sarà un'intelligenza artificiale non è vero l'hanno fatto 20 anni fa capito cioè ogni volta ti rendi conto che in realtà non è abbastanza perché quella roba lì non sta pensando sta semplicemente come dici calcolando se ve la menate con queste robe qui un altro libro che è fratello di quello che vi ho fatto vedere prima infatti uno dei due autori è lo stesso è questo qui questo è un libro pieno di domande non di risposte nessuno le ha risposte però le domande sono utili per essere più critici pure le domande giuste capito? sì dico anche riempirsi la testa di domande che non hanno risposte però ti aiutano ad essere critico che è la differenza tra noi e queste e queste e queste intelligenze ok adesso ti faccio ti faccio un'altra questa parte qua è bellissima dell'intelligenza artificiale che poi ha anche più a che fare con l'art no lo so lo so ma infatti poi chissà magari poi troviamo anche qualche se vuoi tornare facciamo qualche altra live su delle cose più dettagliate in particolare sui film per esempio sarebbe bello fare una live ho visto giusto da poco ex macchina di Garland che parla proprio di un'intelligenza artificiale che si nutre del web come è un motore di ricerca la sua fonte no e fa quello che dici tu cioè prende statisticamente poi dà le risposte l'intelligenza artificiale vabbè per Stephen Hawking diceva potrebbe diventare un pericolo ovviamente lui ne parlava senza tutti gli risvolti che ci sono ora no però secondo te come ho tutte le cose troppo allarmista no è il classico Skynet diciamola proprio terra terra il classico Skynet cioè un giorno noi abbiamo tutto automatizzato perché poi Skynet per essere potente com'è ha bisogno anche di un mondo dove tutto è a responsabilità delle macchine perché se se tu hai Skynet adesso cosa succede? niente si spengono quattro luci torniamo all'età della pietra per una settimana un mese e poi dopo piano piano rimettiamo insieme i pezzi ma se tu hai tutto automatizzato puoi cioè per esempio penso alle bombe nucleari no ma se le bombe nucleari hanno le chiavi gli addetti i codici i codici ce le ha uno e l'altro è ovvio che Skynet non può lanciare le bombe nucleari e ammazzarci tutti no? certo anche se è collegata a internet e fa il cazzo che gli pare perché è super intelligente quindi se è vero se è vero che ci sono tutte le chiavi tutte quelle robe lì sì io in realtà non lo so se è vero ah tu dici una cosa dei film magari che cazzo ne so io in effetti io spero di sì perché sarebbe veramente una delle poche cose intelligenti che fanno spero anch'io però non so non so se poi quello che lancia che lancia il missile aspetta veramente di parlare con col politico di turno se gli arriva un messaggino che potrebbe essere che cazzo ha chiarato in qualche modo esattamente il problema della sicurezza è un altro problema gigantesco adesso stiamo demandando tutta la nostra sicurezza ai telefonini qua sopra c'è tutta la nostra vita cioè se ti ciulo un telefonino è un casino è un casino capito Diego scrive in Ex Machina la questione non è se è intelligente o meno ma se è cosciente o meno certo 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 perché è vero perché in effetti nel film lo dice l'intelligente è già iperintelligente ma vuole capire se ma anche chat GPT è intelligente perché non puoi dire che non sia intelligente capisci cioè se tu gli chiedi delle robe ti risponde a tono ti risponde in italiano cioè ti dice delle robe assolutamente sensate a parte il fatto che poi dopo se vai a controllare se ti ha risposto giusto o sbagliato spesso ti risponde sbagliato ma tu dai per scontato che invece ti abbia risposto giusto come accade con un sacco di influencer tra l'altro e quindi è una gran cazzara però ripeto nelle intelligenze artificiali come mai sbaglia scusa giusto perché penso che magari qualcuno se lo chiede cioè perché ti dà la risposta sbagliata perché sbaglia come possiamo sbagliare noi hai imparato come abbiamo imparato noi per cui sbaglia come sbagliamo noi fonti sbagliate diciamo esattamente come noi ci informiamo nei posti sbagliati e sappiamo non le cose sbagliate esatto cioè io vorrei farti vedere una roba adesso guarda ti faccio uno char proprio di schermo intero ti faccio proprio uno char di questa roba qui condividi che è tutta la mia macchina tutto il mio desktop così ti faccio vedere una roba ok allora questo qui è la GPT chat allora qui abbiamo due tipi di intelligenza artificiale completamente diversi Wolfram Alpha qui potrei parlare per due ore di questo oggetto qui allora questa è il risultato di 30 anni di sviluppo di un genio assoluto che si chiama Stephen Wolfram Stephen Wolfram inizia inizia giovane come matematico inizia a scrivere si rende conto che è possibile scrivere dei programmi che lo aiutino nel fare calcoli matematici quindi scrive dei motori di matematica simbolica eccetera 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 fonda una società produce un prodotto che si chiama matematica che diventa famoso in tutto il mondo e serve ai matematici proprio per risolvere roba matematica mette in piedi questo sistema qui tutto questo questo affare qui è una sorta di engine è una specie di google al quale puoi fare domande scientifiche e lui ti risponde tutto questo per arrivare a scrivere un libro che è questo qua ok cioè una cosa incredibile dove sostanzialmente descrivere si chiama il new kind of science un nuovo tipo di scienza perché Stephen Wolfram sta sulle palle a tutto quanto il mondo scientifico perché spiega la scienza in maniera completamente diversa da come lo fanno tutti gli altri tutti parlano di formule lui parla di programmi cioè questo praticamente descrive la realtà come matrix come programmi è una cosa pazzesca però ripeto ci vuole un'ora sta sanguinando il cervello ti dico solo questo ecco ci vuole un'ora per parlare di questa roba lui è un grandissimo ma fa questo Wolfram Alpha solo per dirti che adesso io gli ho chiesto a Wolfram Alpha la velocità di un oggetto lasciato cadere da 50 metri sulla luna e quindi Wolfram Alpha che cosa fa dice fa il parsing di questa roba qui e dice distanza di caduta 50 metri l'accelerazione gravitazionale della luna è 1.63 eccetera ma non è pazzesco questo coso questo è pazzesco questo è pazzesco cioè una calcolatrice futuristica pazzesca del tutto ma questa è una cazzata cioè questo affare qui fa delle cose che sono veramente incredibili allora come è costruito questo affare qui è costruito nel primo dei modi che avevo descritto prima cioè qui viene catturato lo scibile matematico in maniera esplicita viene utilizzato un linguaggio di programmazione dove viene scritto proprio tutto quanto cioè qui non c'è dietro una rete neurale qui c'è dietro proprio del codice ok cioè Wolfram qui ha scritto proprio le equazioni le equazioni del moto tutte quelle robe lì tutto quello che noi sappiamo eccetera alla fine ci ha messo tutta della magia che non c'è un lavoro della madonna comunque è un lavoro vabbè non l'ha fatto da solo chiaramente ti dico cioè ci ha messo 30 anni per fare questo scherzetto qui però comunque quello che dice Wolfram alfa è giusto e quindi la risposta giusta la velocità la velocità di un oggetto che tocca il suolo sulla luna dopo che cade per 50 metri è 12.74 metri al secondo ok adesso chiediamolo a GPT chat ok e lui dove si informa su i siti di fake news no lui prende tutto da wikipedia però prende tutto da wikipedia come lo potrebbe prendere un bambino cioè lui ha immagazzinato un sacco di informazioni però non è capace di fare i calcoli mi viene in mente quello che hai detto prima gli manca c'è il senso critico di valutare tutto quello che ha letto e capirlo fondamentalmente peraltro la cosa incredibile è che gli puoi parlare in italiano a GPT chat perché ha letto anche sì sì ci ho parlato ci ho parlato quindi capito qua è la velocità di un oggetto lasciato cadere da 50 metri sulla luna lui ti racconta ecco appunto subito in down subito in down un error proviamo a vedere perché magari ci riproviamo anzi ve lo chiediamo proprio gli facciamo esattamente la stessa domanda in inglese start c start v ok ok sulla luna un oggetto lasciato cadere da un'altezza di 50 metri raggiungerà una velocità massima di circa 40.23 metri al secondo no è sbagliato 17 metri vedi che ti mette tutto quanto sì sì attenzione però questa volta ha fatto una roba diversa si sta evolvendo quindi dall'ultima volta no perché attenzione è probabilistica la cosa è statistica non è che ti risponde sempre nello stesso modo capito cioè lui quando tu gli dai un input lui vede dei simboli e ognuno di quei simboli lì si propaga all'interno della rete scatena altri simboli e alla fine viene fuori questa roba qui però lui è assolutamente normale che si contraddica anche perché qui ti dice che Woodrich maximum speed of approximately 20 40.23 ma poi qui invece il calcolo lo fa davvero e ti dice 16 metri al secondo che è quasi basta scusami figura qui qui lo dice è quasi giusto la velocità è raggiunta dopo è caduto per circa 3.61 3.61 secondi vediamo se è vero no ci mette 7.8 secondi vedi quindi chat gpt è un cazzaro però se tu gli chiedi chiediamogli qualcosa di horror non lo so mi prende alla sprovvessa stavo appena sgridando mio figlio che gli ho detto di non venire qua a urlare che ha vinto l'argentina e il mondiale tra l'altro perché Joe ha sgridato Jonah no che poi mi manda il telefono mi manda i servizi sociali a casa acribbio ecco vabbè adesso dice che non ha abbastanza informazioni perché chiaramente però voglio dire non solo che fai famoso eh vabbè adesso non mettiamo la giudura di cosa parla di cosa parla la notte dei morti viventi la notte dei morti viventi è un film del 1968 diretto da Giorgio Romero è wikipedia fondamentalmente cioè è wikipedia sì ma non solo cioè perché poi tu adesso gli puoi anche chiedere delle robe e lui sembra effettivamente intelligente adesso ci proviamo sembra discorsivo quando cioè sembra che stia chattando con te proprio perché una persona che ha un colloquio con te adesso gli chiediamo non so nel film gli zombie sono stati risvegliati da una misteriosa onda di radiazioni secondo te che tipo di radiazioni potrebbero essere secondo me ti rimbalza secondo me ti rimbalza no no le radiazioni che causano la risurrezione dei morti sono descritte come misteriose e non sono forniti ulteriori capisci che minchia sembra sembra che capisca sembra che capisca questo affare non sta non sta capendo niente questo è incredibile è una simulazione del capire ci mette dentro le radiazioni perché chiaramente siccome stai parlando di radiazioni questo questo vabbè questo più o meno abbiamo capito come funziona no ma invece per passare a una roba che mi interessa anche di più in quanto comunque ha a che fare anche questo ha a che fare con l'arte nel senso che mi chiedo potrei scrivere un romanzo bellissimo di valore artistico un'intelligenza come questa allora io ho provato a fargli io ho provato a usarlo per fargli generare una trama di un film giallo all'Agata Cristi in effetti ti dà degli spunti interessanti lo devi continuamente continuamente in qualche maniera esattamente gli devi dire no ma allora adesso inventiamoci che c'è un capofamiglia con due figli uno dei due figli è un è un figlio illegittimo eccetera eccetera poi a un certo punto chi potrebbe essere il però poi a quel punto mi sembra che il lavoro lo fai tu sì è abbastanza vero quindi questo questo non è ancora così avanti cioè rispetto a Midjourney come si chiama l'intelligenza che c'è dietro a Midjourney perché Midjourney è l'app no? sì Midjourney è l'app dietro c'è comunque il 2 ah ok però ecco applicato nel disegno l'impressione che ho poi magari non è vero applicato nel disegno mi sembra più avanti la parte di creazione di immagini disegnate artistiche no no ok no guarda ti ripeto GPT-3 è un cazzaro è anche lui un cazzaro per altre robe il discorso che facevamo delle mani perché se a GPT-3 gli dici di disegnare solo una mano la fa bellissima ma le mani dei personaggi fa delle schifezze con sette dita perché non ha senso critico perché gli hanno fatto vedere un sacco di mani e gli hanno detto questa è una mano questa è una mano questa è una mano eccetera eccetera gli hanno fatto vedere un sacco di personaggi gli hanno fatto vedere un sacco di facce per cui ha capito che una faccia c'ha due occhi un naso e una bocca e non ti disegna con tre occhi però non è ancora arrivato a capire che quella roba lì che c'è in fondo al braccio è una mano non fa quel collegamento lì e quindi quella roba lì al posto di disegnare una mano con cinque dita te la disegna come la disegnerebbe un bambino i bambini sbagliano a disegnare le dita le mani se le fanno con sei dita sette dita è proprio proprio così oppure attaccano le gambe alla testa nei primi disegni attaccano le gambe alla testa o cose strane solo dopo averne viste tante 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 oppure lo metti lì e predi giorno e gli dici Giona però guarda ne abbiamo cinque di dita da quel giorno lì tuo figlio disegnerà sempre le mani di dita lì è la differenza esattamente però ecco io ho visto delle opere su Mid Journey è questo discord questo canale discord dove si possono generare immagini che usano questa IA ho visto delle immagini meravigliose cioè ma proprio è una cosa che cosa cioè queste immagini sono così belle che mi verrebbe da dire non c'è nessuna differenza a livello di valore tra queste immagini e quella fatta da un artista umano perché sono cioè sono belle oggettivamente allora qui si apre chiedo a te proprio personalmente visto anche il bagaglio che hai tu le consideri opere d'arte io sì io sì però se tu parli anche qui il mondo si è diviso a metà perché ci sono artisti che le considerano arte e artisti che le considerano degli aborti inaccettabili e delle offese cioè ho letto giusto quando era stamattina ieri che c'è che Miyazaki ha detto che è un'offesa alla vita quella roba lì capito cioè io ci vedo un po' di chiusura mentale dovuta anche al tempo che passa insomma non è facile accettare questi cambiamenti io sono io sono un disegnatore no anche se non disegno più da tanto eppure non mi sento minacciato da questa cosa nel senso che se mi sentissi minacciato mi sarei dovuto sentire minacciato anche dagli altri disegnatori cioè quello che faccio io è il mio e sarà sempre mio e la gente lo può apprezzare comunque quello che fa l'IA lo fa l'IA se tu lo vuoi apprezzare lo apprezzi ma a me viene da pensare che è molto simile ai sintetizzatori la musica creata diciamo al computer con due grandi virgolette cioè quando è arrivata era la non musica quella non è musica ora invece quello è un grande artista di musica elettronica ma come cioè sta usando non ha suonato una nota su uno strumento no perché lo strumento è il computer esatto e dietro a quei e dietro a quei programmi c'è un'intelligenza tra virgolette del programma che ti traduce questo in un suono poi te lo manda la velocità dei beat che vuoi tu eccetera eccetera quello è quello che fa me giorni cioè è pur sempre un'applicazione che usa una serie di calcoli fondamentalmente assolutamente sì ma soprattutto un'altra cosa è comunque un'applicazione alla quale tu dai delle istruzioni quindi è comunque qualcosa che viene controllata da un umano e quindi si comporta più o meno bene i suoi risultati sono più o meno belli a seconda del prompt che tu gli scrivi dentro non è che è un facilitatore comunque è un facilitatore indubbiamente ma non è così facile ottenere delle immagini belle capito? cioè ti devi comunque impegnare a far venire fuori delle robe belle da me sì sì però è diciamo come se fosse uno strumento elettronico che invece di far uscire musica fa uscire disegni certo assolutamente sì assolutamente sì però sai queste diatribe sul fatto che sia o non sia arte eccetera eccetera è un po' come è un po' come dire che se tu cioè se tu ammazzi qualcuno con una pistola la colpa è della pistola cioè no sei tu che hai sparato capito? sì sì ho capito è comunque uno strumento certo certo poi chiaramente uno può dire tranquillamente sottolineare il fatto che dipingere la stessa cosa con i colori è molto più difficile per un umano che scrivere che scrivere quello lo può comunque tenere presente cioè tutti ce l'abbiamo presente cioè se io vengo da te Aaron e ti faccio vedere un mio me journey e un quadro simile di bellezza fatto a mano con i colori acrilici tu mi dici però cazzo questo regalamelo perché questo no penso che la difficoltà il sudore di una roba ma fatta mano la capisci il valore quindi mi dici questo lo voglio quello tienitelo pure che tanto con i giorni lo rifai 45 volte la paura dell'establishment artistico è che invece vista la cultura media dell'utenza l'utente non sa più riconoscere tra le due cose ma ci sta anche che tra un po' di anni non si possa proprio riconoscere assolutamente come non si potrà riconoscere un filmato fake assolutamente o una dichiarazione di un politico fake come la vedi questa cosa del fatto che l'informazione non sarà più credibile da nessun punto di vista e come può cambiare il mondo in questo senso ma è un gran casino già adesso è un gran casino comunque cioè adesso voglio dire c'è della gente che pensa che la terra sia piatta quindi siamo tornati non so che anni erano quando per la scoperta dell'america ancora la terra piazza beh sì guarda io credo che solamente veramente come dicevi tu proprio all'inizio la cultura solamente ci può salvare cioè tu non puoi più sperare di essere al sicuro se non capisci le cose cioè perché c'è uno stato che le capisce per te c'è uno stato che ti protegge c'è uno al governo perché poi alla fine adesso tutti però il governo per quanto faccia male le cose si garantisce tutta una serie di cose di cure noi paghiamo una fraccata di soldi però poi noi non dobbiamo chiederci cosa è giusto cosa è sbagliato ci arriva tutto dall'alto certo cioè noi come se pagassimo una babysitter che ci cura la paghiamo cara la paghiamo salata in Italia è così altre forme di governo sono diverse tra un po' dovremmo smetterla di pagarla perché non ci darà più niente perché non potrà più darci garanzia di di giustizia di informazione di niente perché tutto sarà difficile da distinguere certo attenzione che qui tu stai aprendo veramente un vaso di Pandora perché io per esempio un'altra cosa che penso da ormai da molti anni è che è assolutamente necessario una forma di adesso in Italia abbiamo il reddito di cittadinanza che c'è un nome brutto secondo me ma poi il brutto che viene associato ai 5 stelle in realtà io lo credo molto nel reddito nel reddito di esistenza chiamiamolo il reddito di esistenza dovrebbe essere una rendita di esistenza perché il reddito presuppone che fai qualcosa la rendita invece è qualcosa che solo per il fatto che esisti tu dovresti avere diritto a dei soldi perché perché le macchine veramente sono destinate a sostituirci in tantissimi questo affare qui di GPT-3 abbiamo detto che è un cazzaro ma se tu gli fai scrivere quattro righe già adesso è assolutamente in grado di sostituire che cazzo ne so un copy di un dialoghisti sicuri i dialoghisti hai capito mia moglie ha fatto la dialoghista per una serie per cento vetrine mi sembra per una puntata e quello lo può fare lo può fare lui dialoghista scrivere i dialoghi di una serie ciao Diego grazie ho salutato Diego che sta andando ciao ciao caro grazie per la partecipazione mi spiace per le pubblicità ci sono un sacco di lavori che sono destinati allora diciamo che beh molti si fanno fare il logo dell'azienda da mei giorni per esempio una volta si comprava magari già fatto oppure pagavi un bel po' un art director te lo disegnava adesso gratis praticamente ti devi accontentare di quello di un logo creato da un'intelligenza non critica che non ha una visione come può averla un art director con esperienza ti devi accontentare non è che ti devi accontentare se ti accontenti e ti va bene va bene però ecco però magari tra un po' invece tra un po' invece saranno saranno fatti meglio saranno più critiche per critici no? le intelligenze artificiali dici? cercheranno di sopperire al fatto che non sono critiche eh ma lì dovrebbero diventare veramente intelligenti dovrebbero diventare come noi è quello lì il grande step comunque siamo abbastanza secondo te siamo ancora un po' lontanini da quella cosa lì siamo a anni luci da quel passo lì perché ti ripeto devono diventare autocoscienti per diventare però c'è un mondo più automatizzato dove i lavori vengono sostituiti tanti lavori vengono sostituiti cioè quello invece sembra abbastanza vicino no? sì però ci vuole un reddito ci vuole una rendita eh sì sennò c'è la rivoluzione il lavoro dopo si incazza ed è guerra civile ma a me sembra che ci siano delle piccole ehm degli piccoli come dire eh una volta c'era l'eroina e e l'alcol no? adesso ci sono tante piccole cose che tengono buone le persone cioè la la le non so come dire le piattaforme di di streaming le persone sono appiccicate a guardare serie tv sono appiccicate dei social sono in giro cioè non 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 sento tanta questo questo bisogno di ribellarsi ai problemi no? mentre negli anni settanta uno c'era un cazzo da fare diceva fanculo vado in piazza a protestare no? Joe sì fino a quando non perdi il lavoro perché quando quando perdi il lavoro e quando tanta gente inizierà a perdere il lavoro per colpa delle macchine poi dopo saranno cazzi cioè quella gente lì a un certo punto saranno tanti e incazzati capisci? ci deve essere qualcosa che ti garantisca che tu non andrai a finire in mezzo alla strada sotto un ponte a far la fame il minimo il minimo sindacale poi per il resto ti devi poi per il resto ti dovrai arrangiare insomma se vuoi di più aspetta che c'è una domanda continua a chiedermi le tasse per finanziare questa rendita di esistenza la pagheranno le euro dovrebbero pagare i padroni di queste macchine perché i padroni di queste macchine spendono molto meno quindi guadagnano molto di più e quindi le tasse verso questi questi sistemi rimane il problema della tassazione che si vuole che ci sono governi che vogliono tassare poco i ricchi come al solito paghi il tuo robot fa il lavoro di 30 persone ok mi ridai indietro lo stipendio di almeno 15 persone non c'è altro modo se no non c'è modo anche perché mi viene da dire questa cosa anche se io e te non siamo economisti però se un'azienda vive di vendere stronzate alle persone e le persone non hanno più lavoro per comprare queste stronzate come fa quell'azienda a continuare ad essere ricca se tu togli il potere d'acquisto alle persone poi come fanno queste persone a comprarti le tue cagate a comprare la coca cola a comprare l'apple watch peraltro oltretutto chiaramente la rendita di esistenza non deve essere una roba che ti permette di comprarti l'apple watch quello deve essere così ok quella è una roba che ti permette di vivere decentemente dignitosamente no no i tuoi conti non tornano vitto perché lo sappiamo che non tornano anche perché appunto i governi tendono a proteggere i poteri forti e quindi difficilmente li ipertassano quindi lo stiamo vedendo anche adesso cosa sta succedendo insomma certo sicuramente uno dei problemi ai quali stiamo andando incontro non è che non sono mica un economista cioè non faccio mica quel lavoro lì è semplicemente una roba che io alzo la manina chiaramente la nostra opinione senza che stiamo dicendo che è la verità assoluta è la nostra opinione serena noi abbiamo lavorato con Negroponte ti ricordi quando aveva inventato la roba One Laptop Per Child per portare i computer in Africa dicevano ma in Africa ci devi portare l'acqua e non il computer e Negroponte giustamente diceva ragazzi io mi occupo di computer se volete in Africa ci porti i computer l'acqua ce la deve portare qualcun altro lo spiego perché magari non lo sanno noi ci siamo conosciuti in questa azienda gestita da Dimitri Negroponte il padre è un grande dell'ambiente diciamo tecnologico Nicolás Negroponte comunque lui portava dei computer a manovella cioè tu li ricaricavi a mano con una Dynamo penso dentro e questi computer erano molto sofisticati perché si collegavano credo satellitare in qualche maniera e quindi tu pensi a un villaggio dove sì effettivamente c'è poca acqua c'è poco da mangiare però c'è un computer hai la conoscenza hai la conoscenza e lui poi l'esempio che hai fatto tu è giusto cioè non è che io intanto io gli porto questo poi il resto c'è meglio di niente intanto la conoscenza perché tra quei bambini ce ne sarà uno che poi magari intanto scopri che c'è un mondo dove l'acqua arriva il presidente del Ruanda e porterà l'acqua cioè non fai un cazzo non fai un cazzo ma poi soprattutto vedi che esiste un mondo che è al di fuori di un villaggio senza acqua scopri che c'è un mondo che quindi anche il tuo villaggio può diventare come gli altri chiaro è difficile però la mente ha bisogno di vedere l'orizzonte per poter iniziare a lavorare a macinare quindi è una tassa figa il mondo è diventato rispetto a una volta il mondo è diventato iper complesso capisci? cioè una volta avevamo la televisione in bianco e nero avevamo quattro canali adesso non è più così adesso non puoi più sperare di sapere tutto capire tutto cioè mi viene da chiudere tutto questo mega diciamo escursus sul no beh ma è certo poi è interessante poi alla fine abbiamo un po' corso mi viene da anche perché parliamo un po' di economia anche se non siamo proprio così da persone che sono amanti di questi argomenti tecnologici sì il reddito ma anche la tecnologia green secondo me è importante anche se non se ne sa molto cioè il fatto di adesso abbiamo dei consumi altissimi se pensiamo adesso io non so se sia vero o no però ci sono queste rumors per cui mandare un'email costa come un botto di energia per cui penso che sia importante anche che però anche lì cosa sono i governi che devono spingere per far sì che la tecnologia sia meno se penso a un computer che va con la dinamo cioè perché noi dobbiamo avere sempre 3.000 cavi 3.000 luci 3.000 robe che si accendono cioè abbiamo un consumo in casa pazzesco anche lì è un discorso difficilissimo Joe perché se tu parli con 10 esperti ti daranno 10 risposte diverse anche il discorso sulle criptovalute che dicono che bitcoin consuma un botto di energia è vero che consuma un botto di energia però intanto sono arrivate altre criptovalute che consumano molto meglio perché utilizzano algoritmi diversi e poi comunque non è che l'economia mondiale tenuta in piedi dalle banche come sono fatte adesso non consumi un cazzo cioè anche quella lì che consuma un botto di energia non ho capito non riesci è il discorso di prima è un problema complesso non riesci a a spiegarlo staccandone un pezzo ma è tutto collegato perché se tu pensi alla povertà pensi anche all'energia no della singola persona che perde il lavoro però vive in una casa che presto perderà che consuma un sacco di energia certo adesso hanno fatto questo annuncio del reattore a fusione che pare che sia andato in positivo eccetera eccetera però anche lì non l'hanno raccontata tutta però sarà comunque in energia in mano a pochi mica la regalano a tutti perché tra virgolette è infinita boh e chi lo sa qui ci vorrebbe uno scrittore di fantascienza per risponderti però mi vien da dire il reattore nucleare mio vaffanculo adesso guadagna come un pazzo di sicuro di sicuro i grilli che hanno il petrolio sono incazzati neri certo anche lì le macchine elettriche sì le macchine elettriche no se tu parli con dieci persone diverse ti daranno dieci versioni diverse a me personalmente e a me piace il concetto di macchine elettriche se non altro per il fatto che penso che sia meglio che tutta la merda rimanga nella batteria della macchina elettrica e che non venga sparsa nell'atmosfera ok poi siamo tutti e poi se non altro cioè puoi mettere delle celle solari sul tetto e te la carichi localmente cioè puoi distribuire tutto quanto anziché è un po' quello che è successo nell'informatica una volta c'erano i mega centri di calcolo col computerone e tutte le robe e tutti i monitor attaccati adesso invece è tutto distribuito non c'erano più i mega server di una volta però anche lì ci sono pro e contro certo come la guardi la guardi trovi sempre dei pro e dei contro per tutti in tutti i punti di vista cosa ne facciamo delle batterie è vero che le batterie le puoi riciclare quanto si riesce a riciclare c'è chi ti dice che le ricicli alla grande e c'è chi ti dice che invece diventano delle bombe ecologiche allucinanti io ho un caro amico che lavora proprio nel mondo del riciclo è un consulente per la comunità europea mi ha raccontato un po' di robe sulle batterie che mi hanno riempito di speranza perché mi diceva guarda ormai ci sono delle tecnologie per il riciclo che fanno paura bene quindi è da dire bene però si poi non si può essere esperti cioè documentati sempre su tutto quello lì quello lì era Leonardo da Vinci capito ma è da allora che non esiste più il personaggio che sa tutto di tutto c'è non puoi più ascolta io ti direi che possiamo anche più della scuola perché siamo siamo veramente oltre ti ho detto che vabbè gli argomenti erano tanti poi noi ci siamo concentrati su quelli che sono questo era più un chiacchiericcio sulle nostre impressioni noi non siamo esperti di economia di politica eccetera quindi era solo per avere una visione da un amante della tecnologia come la vede anche perché comunque abbiamo parlato anche di televisioni dei romanzieri di cyberpunk e secondo me lì ci sono tanti spunti anche nel cinema su come si possono evolvere queste cose penso anche a Ready Player One ecco vedi che è interessante come vive quella è un bel film immagino anche il libro è un grande libro è un grande libro hanno fatto un lavoro comunque io sono contento che abbiamo parlato bene sia di IA che di Metaverso bene nel senso per un pubblico che magari non ne sa molto e quindi ha un'idea un'infarinatura ti ringrazio tantissimo ora facciamo una cosa se vuoi dire una roba se no chiudiamo se avevi qualcosa da dire no direi che ok no no perché non vorrei tagliare la live così magari avevi una cosa ok ti ringrazio tantissimo che sei stato qua ringrazio quelli che hanno partecipato nella chat questo video verrà caricato anche su YouTube così potrà essere guardato con calma da chi vuole un po' capire meglio adesso facciamo una cosa particolare che c'è su Twitch che ti ho spiegato prima che è Ride e poi si facciamo un Ride cioè praticamente gli spettatori grazie Davide se volete salutarci in chat vi rispondiamo mentre facciamo un Ride gli spettatori della mia stream praticamente vengono catapultati in una stream che sta andando in questo momento che è uno streamer amico tra l'altro è un nerd che si occupa di videogame abbastanza attempato pure lui come noi quindi facciamo un Ride da Junkel se mi va faccio partire la stream intanto ti ringrazio ancora e salutiamo in chat se vuoi salutare anche tu ciao Giorgio ciao Vitto ciao Alca ciao a tutti ciao a tutti quanti grazie per essere stati qua con noi e mi raccomando continuate anzi scusate Puntescanale mi sono dimenticato di farlo vi chiedo scusa ospite Puntescanale attivo ospite vi ho messo in chat l'instagram di Babbele Dunit cioè Aaron e il suo sito per poter andare a approfondire un po' meglio chi è grazie a tutti quanti e grazie per essere entrati nel Ride lo faccio partire ciao Aaron grazie mille bellissima live lo sapevo che sarebbe stata grazie alla prossima ciao